il giovanetto samuele serviva il signore alla presenza di eli in quei giorni la parola di dio era preziosa perché le visioni non erano frequenti un certo giorno eli stava dormendo nella sua cella i suoi occhi avevano cominciato a indebolirsi ed egli non riusciva a vedere la lampada di dio non si era ancora spenta mentre samuele dormiva nel tempio del signore dove era l'arca di dio allora il signore chiamò samuele che rispose eccomi e corse da eli dicendo eccomi dato che mi hai chiamato questi rispose non ti ho chiamato torna a dormire egli se ne andò a dormire il signore chiamò una seconda volta samuele samuele si alzò andò da eli e disse eccomi mi hai chiamato questi rispose non ti ho chiamato figlio mio torna a dormire samuele ancora non conosceva il signore né gli era stata rivelata la parola del signore il signore chiamò di nuovo per la terza volta samuele questi si alzò e andato da eli disse eccomi mi hai chiamato allora eli capì che il signore stava chiamando il ragazzo disse quindi eli a samuele va a dormire e se ti chiamerà dirai parla signore perché il tuo servo ti ascolta samuele se ne andò a dormire nel suo posto allora venne il signore si pose accanto e chiamò come le altre volte samuele 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 rispose parla perché il tuo servo ti ascolta il signore disse a samuele ecco io sto per fare in israele una cosa che farà rintronare le orecchie di chiunque ludrà in quel giorno compirò contro eli tutto quello che ho predetto riguardo alla sua casa dall'inizio alla fine gli annunzio che sto per punire la sua casa per sempre per il delitto da lui conosciuto che i suoi figli disprezzavano dio e non li ha corretti per questo giuro alla casa di eli non sarà espiato in eterno il delitto della casa di eli né con sacrificio né con oblazione samuele dormì fino al mattino poi aprì le porte della casa del signore samuele aveva timore di riferire la visione a eli ma eli chiamò samuele dicendo samuele figlio mio e lui eccomi quello riprese che cosa ti ha detto su non me la tenere nascosta dio ti faccia questo e peggio ancora se mi nascondi qualcosa di tutto quello che ti ha detto allora samuele gli manifestò ogni singola cosa non gli nascose niente quello disse egli è il signore faccia ciò che è bene ai suoi occhi samuele poi diventò grande il signore era con lui e non fece cadere a terra nessuna di tutte le sue parole tutto israele da dan a bersabea seppe che samuele era accreditato come profeta del signore il signore continuò a manifestarsi assilo perché egli si rivelava a samuele assilo con la sua parola eli era molto vecchio e i suoi figli continuavano sempre peggio con la loro condotta davanti al signore samuele primo libro c'era un uomo di ramataim uno zuffita dei monti di efraim di nome elcana figlio di erocam figlio di eliao figlio di tocu figlio di zuff e fraimita aveva due mogli una si chiamava anna l'altra peninna or peninna aveva figli anna invece non ne aveva ogni anno quell'uomo saliva dalla sua città per fare adorazione e offrire sacrifici al signore degli eserciti assilo dove i due figli di eli ofni e fines erano sacerdoti del signore un giorno elcana offrì un sacrificio ora soleva distribuire le porzioni a sua moglie peninna e ai figli e alle figlie di lei ma ad anna dava una sola porzione benché preferisse anna il signore però le aveva reso sterile il seno la sua rivale le infliggeva continue umiliazioni per mandarli in scandescenza in quanto il signore aveva reso sterile il suo seno così avveniva tutti gli anni ogni volta che saliva alla casa del signore essa l'affliggeva allora anna si mise a piangere e non voleva mangiare elcana suo marito le disse anna perché piangi perché non mangi perché è triste il tuo cuore io non sono per te più di dieci figli anna si levò dopo che essi ebbero mangiato e bevuto in silo mentre il sacerdote eli stava seduto sul seggio presso la soglia del tempio del signore nell'amarezza della sua anima pregava davanti al signore piangendo accuratamente e fece voto dicendo o signore degli eserciti se guarderai benignamente all'afflizione della tua serva se ti ricorderai di me e non terrai in oblio la tua serva ma concederai alla tua serva prole maschile io la darò al signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non sfiorerà la sua testa mentre ella prolungava la sua preghiera davanti al signore eli stava osservando la sua bocca infatti anna parlava nel suo intimo soltanto le sue labbra si muovevano ma non si udiva la sua voce per questo eli pensò che fosse ubriaca le disse dunque eli fino a quando sarai ubriaca smaltisci dalla tua testa i fumi del vino anna rispose dicendo no mio signore io sono una donna con lo spirito oppresso non ho bevuto né vino né sicera ma ho effuso la mia anima davanti al signore non considerare la tua serva una donna perversa è l'eccesso della mia tristezza e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora eli le rispose vai in pace e il dio di israele ti conceda quello che gli hai richiesto ella rispose possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi la donna se ne andò per la sua via prese cibo e il suo volto non fu più come prima alzatisi di buon mattino si prostrarono davanti al signore poi presa la via del ritorno giunsero alla loro casa a rama elcana conobbe sua moglie anna e il signore si ricordò di lei così al compiersi del tempo anna concepì e dette alla luce un figlio cui pose nome samuele dicendo l'ho domandato al signore poi il marito elcana salì con tutta la sua famiglia per offrire al signore il sacrificio annuale e sciogliere il suo voto anna non vi salì aveva detto infatti a suo marito quando il bambino sarà slattato allora ve lo condurrò e lo presenterò davanti al signore perché rimanga là per sempre elcana suo marito le aveva risposto fa ciò che ti piace rimani pure fino a quando lo avrai slattato il signore realizzi la tua parola così la donna rimase e allattò suo figlio finché non l'ebbe divezzato allora dopo lo slattamento lo condusse con sé insieme con tre vitelli un'efa di farina e un'otra di vino e lo introdusse nella casa del signore a silo il fanciullo era ancora bambino immolato il vitello condussero il bambino da eli anna disse di grazia mio signore per la tua vita o mio signore io sono quella donna che stava qui presso di te a pregare davanti al signore ho pregato per avere questo bambino e il signore mi ha concesso quanto gli ho chiesto a mia volta lo dono al signore per tutti i giorni che egli vivrà è ceduto al signore poi adorarono il signore anna pregò e disse il mio cuore esulta nel signore la mia fronte si eleva al signore si dilata la mia bocca contro chi mi odia poiché gioisco per la tua salvezza non vi è santo come il signore poiché non vi altri all'infuori di te ne vi è rupe come il nostro dio non parlate più a lungo con aria superba non esca parola arrogante dalla vostra bocca perché il signore è un dio sapiente da lui sono giudicate le azioni l'arco dei prodi è spezzato mentre i deboli si cingono di forza i sazi vanno al lavoro per il pane mentre gli affamati si riposano perfino la sterile genera sette volte mentre la madre di molti figli appassisce il signore da morte e da vita fa scendere agli inferi e ne fa risalire il signore rende poveri e rende ricchi umilia ma anche esalta solleva dalla polvere l'abietto innalza il povero dalle immondizie per farlo sedere con i principi e gli assegna un trono di gloria perché il signore possiede le colonne della terra e pone su di esse il mondo veglia sui passi dei suoi devoti mentre i perversi periscono nelle tenebre poiché l'uomo non prevale per la forza gli avversari del signore saranno stroncati l'altissimo tuonerà dal cielo il signore giudicherà ai confini della terra e darà potenza al suo re e innalzerà la fronte del suo consacrato poi elcana ritornò alla sua casa a rama mentre il bambino rimase al servizio del signore alla presenza del sacerdote eli or i figli di eli erano uomini perversi essi non rispettavano il signore né il diritto dei sacerdoti presso il popolo ogni volta che uno offriva un sacrificio veniva il servo del sacerdote mentre si coceva la carne con in mano un tridente e lo ficcava nel caldaio o nel calderone o nella pentola o nella marmitta il sacerdote vi prendeva tutto quello che il tridente tirava su così facevano con tutti gli israeliti che andavano la assilo anche prima che avessero fatto bruciare il grasso veniva il servo del sacerdote e diceva a colui che sacrificava dammi la carne da arrostire per il sacerdote egli infatti non accetterà carne cotta da te ma cruda se l'uomo gli rispondeva prima lascia bruciare il grasso e poi prenditi quanto desideri egli replicava no devi darla ora altrimenti la prendo con la forza il peccato dei giovani era molto grave davanti al signore poiché quegli uomini disonoravano le offerte del signore samuele stava al servizio del signore come un fanciullo cinto di efod di lino inoltre sua madre gli faceva un piccolo manto e glielo portava ogni anno quando saliva con suo marito ad offrire il sacrificio annuale allora eri benediceva elcana e sua moglie dicendo il signore ti dia una discendenza da questa donna per il dono da lei fatto al signore poi essi ritornavano al loro paese il signore visitò anna ed ella concepì e diede alla luce tre figli e due figlie intanto il fanciullo samuele cresceva presso il signore eli era molto vecchio udiva tutto quello che facevano i suoi figli all'intero israele e che dormivano con le donne inservienti alla porta della tenda del convegno e disse loro perché fate simili cose io sento parlare delle vostre cattive azioni da parte di tutto il popolo no figli miei non è buona la fama che io odo circolare in mezzo al popolo del signore se un uomo pecca contro un uomo dio gli farà da arbitro ma se un uomo pecca contro il signore chi gli farà da arbitro ma essi non dettero ascolto alla voce del loro padre poiché il signore voleva farli perire invece il giovane samuele cresceva in statura e in bontà sia presso il signore che presso gli uomini un uomo di dio andò da eli e gli disse così dice il signore certo io mi sono rivelato alla famiglia di tuo padre mentre era in egitto sotto il dominio della casa del faraone l'ho scelta tra tutte le tribù di israele come mio sacerdote per salire sul mio altare offrire incenso portare l'efod davanti a me e ho concesso alla famiglia di tuo padre tutti gli olocausti dei figli di israele perché dunque disprezzate il mio sacrificio e la mia offerta che ho ordinato e tu onori i tuoi figli più di me ingrassandovi con la parte migliore di tutte le offerte di israele mio popolo perciò oracolo del signore dio di israele io certo avevo detto che la tua casa e la casa di tuo padre avrebbero camminato davanti a me per sempre ma adesso oracolo del signore non sia mai poiché io onoro quelli che mi onorano ma quelli che mi disprezzano sono vilipesi ecco verrà il tempo in cui stroncherò il tuo vigore e il vigore della casa di tuo padre in modo che non ci sia un anziano nella tua casa vedrai nemico della dimora tutto il bene che sarà fatto a israele nella tua casa non vi sarà mai più un anziano tuttavia non reciderò qualcuno dei tuoi dal mio altare per consumare i tuoi occhi e affliggere la tua anima ma tutta la progenie della tua casa morirà nel fiore dell'età il segno per te sarà quello che accadrà ai tuoi due figli ofni e fines moriranno tutti e due nello stesso giorno e susciterò per me un sacerdote fedele che agirà secondo quello che è nel mio cuore e nella mia anima gli edificherò una casa duratura ed egli camminerà davanti al mio consacrato per sempre ogni superstite della tua casa andrà a prostrarsi davanti a lui per un poco d'argento e un tozzo di pane e dirà ammettimi a qualche ufficio sacerdotale affinché possa mangiare un boccone di pane la parola di samuele fu rivolta a tutto israele in quei giorni i filistei si radunarono per combattere contro israele israele uscì in guerra contro i filistei si accamparono presso e ben ezer mentre i filistei si accamparono in affec i filistei si schierarono contro israele e il combattimento di vampò israele fu battuto dai filistei che uccisero tra le schiere sul campo circa 4.000 uomini quando il popolo rientrò nell'accampamento gli anziani di israele dissero perché il signore ci ha sconfitto oggi davanti ai filistei andiamoci a prendere d'asilo l'arca dell'alleanza del signore perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalla mano dei nostri nemici il popolo mandò assilo a prendere l'arca dell'alleanza del signore degli eserciti che siede sui cherubini c'erano con l'arca dell'alleanza di dio i due figli di eli offini e fines quando l'arca dell'alleanza giunse all'accampamento tutto israele esplose in una grande acclamazione da far tremare la terra i filistei udito il frastuono dell'acclamazione dissero che significa il frastuono di questa straordinaria acclamazione nel campo degli ebrei poi seppero che l'arca del signore era giunta nell'accampamento allora i filistei si spaventarono dicevano infatti è giunto dio nell'accampamento poi aggiunsero guai a noi non era così nei giorni scorsi guai a noi chi ci scamperà dalla mano di questi dei potenti queste sono le divinità che hanno colpito l'egitto con ogni specie di piaghe nel deserto siate forti e siate uomini o filistei per non diventare schiavi degli ebrei come essi furono vostri schiavi siate uomini e combattete poi i filistei attaccarono battaglia e israele fu sbaragliato ognuno se ne fuggì alla sua tenda la sconfitta fu veramente grande caddero 30.000 fanti di israele l'arca di dio fu catturata e i due figli di eli offini e fines morirono un uomo di beniamino fuggì di corsa dall'accampamento e giunse assilo quel giorno stesso con le vesti stracciate e la polvere sulla testa quando arrivò egli stava seduto sul seggio presso la porta scrutando la via perché il suo cuore era in ansia per l'arca di dio quell'uomo andò a portare la notizia nella città e tutta la città levò alte grida eli udito il rumore delle grida domandò che significa il rumore di questo tumulto quell'uomo in fretta andò a portare la notizia eli egli aveva 98 anni aveva gli occhi fissi e non riusciva più a vedere quell'uomo disse a eli io vengo dall'accampamento e sono fuggito oggi stesso dal campo eli domandò come è andata la cosa figlio mio il messaggero rispose dicendo israele è fuggito di fronte ai filistei c'è stata anche una enorme strage del popolo i tuoi due figli ofini e fines sono morti e l'arca di dio è stata catturata quando gli nominò l'arca di dio eli cadde dal seggio all'indietro dal lato della porta si ruppe la nuca e morì egli infatti era vecchio e pesante era stato giudice di israele 40 anni sua nuora moglie di fines incinta e prossima al parto quando udì la notizia che l'arca di dio era stata catturata e che erano morti suo suocero e suo marito si accasciò e partorì perché assalita dalle doglie mentre stava sul punto di morire le assistenti dicevano non tenere perché hai dato alla luce un bambino essa non rispose e non vi prestò attenzione ma chiamò il bambino i cabod volendo dire se n'è andata la gloria da israele riferendosi alla cattura dell'arca di dio al suocero e a suo marito disse dunque se n'è andata la gloria da israele perché l'arca di dio era stata catturata i filistei catturata l'arca di dio la portarono da e ben ezer ad asdod i filistei presa poi l'arca di dio la introdussero nel tempio di dagon e la deposero presso dagon gli abitanti di asdod alzatisi il giorno dopo andarono al tempio di dagon e guardarono ed ecco che dagon giaceva faccia a terra davanti all'arca del signore allora presero dagon e lo rimisero al suo posto l'indomani si levarono di buon mattino ed ecco che dagon stava faccia a terra davanti all'arca del signore la testa di dagon e le palme delle sue mani erano in frantumi presso la soglia solo il torso di dagon era rimasto intatto per questo i sacerdoti di dagon e tutti quelli che entrano nel tempio di dagon non calpestano la soglia di dagon ad asdod fino al giorno d'oggi poi il signore fece pesare la sua mano sugli abitanti di asdod e li devastò colpendo con buboni asdod e il suo territorio gli abitanti di asdod visto come andavano le cose dissero non rimanga presso di noi l'arca del dio di israele perché la sua mano è pesante contro di noi e contro il nostro dio dagon fecero adunare presso di loro tutti i capi dei filistei e dissero che dobbiamo fare dell'arca del dio di israele risposero si porti a gat l'arca del dio di israele così trasferirono l'arca del dio di israele dopo averla trasportata la mano del signore fu su quella città con un enorme panico egli colpì gli abitanti di quella città dal più piccolo al più grande scoppiarono buboni anche ad essi allora mandarono l'arca di dio ad accaron quando giunse l'arca di dio ad accaron i cittadini protestarono mi hanno condotto l'arca del dio di israele per far morire me e la mia gente fatti adunare tutti i capi dei filistei dissero rimandate l'arca del dio di israele perché ritorni al suo luogo e non faccia più morire né me né il mio popolo di fatti vi era in tutta la città una costernazione mortale la mano di dio si faceva sentire la molto pesante i uomini che non erano morti furono colpiti da buboni e il gemito della città salì al cielo l'arca del signore rimase nel territorio dei filistei sette mesi allora i filistei si rivolsero ai sacerdoti e agli indovini dicendo che cosa dobbiamo fare dell'arca del signore fateci sapere in che modo la dobbiamo rimandare alla sua sede quelli risposero se voi volete rimandare l'arca del dio di israele non la rimandate senza doni ma dovete renderle un dono espiatorio allora guarirete e saprete perché la sua mano non si allontanava da voi domandarono qual è il dono espiatorio che le dobbiamo fare risposero cinque buboni d'oro e cinque topi d'oro secondo il numero dei capi dei filistei perché è la stessa piaga per voi tutti e per i vostri capi farete figurine dei vostri buboni e figurine dei vostri topi che mandano in rovina il paese e darete gloria al dio di israele forse la sua mano si farà più leggera su di voi sui vostri dei e sulla vostra terra perché volete intestardirvi come si intestardirono l'egitto e il faraone forse che non li lasciarono partire quando egli fece sentire il suo rigore ed essi se ne andarono adesso dunque allestite un carro nuovo e prendete due vitelle allattanti che non abbiano mai portato gioco su di sé attaccate le due vitelle al carro e conducete via da esse i loro piccoli alla stalla poi prendete l'arca del signore e ponetela sul carro gli oggetti d'oro che le offrite in dono di espiazione li deporrete in una cassetta al suo lato la rimanderete ed essa se ne andrà poi osservate se salirà verso il suo territorio a bet semes fu lui a causarvi questo grande male altrimenti sapremo che non è stata la sua mano a colpirci ma ci è capitata una disgrazia così fecero quegli uomini presero due vitelle allattanti le legarono al carro e rinchiusero i loro piccoli nella stalla poi caricarono l'arca del signore sul carro insieme con la cassetta i topi d'oro e le figurine dei loro buboni allora le vitelle si avviarono dritto sulla strada di bet semes procedevano per la stessa via sempre mugendo senza deviare né a destra né a sinistra mentre i capi dei fidistei andavano dietro ad esse fino al confine di bet semes quelli di bet semes stavano mietendo il grano nella vallata alzati gli occhi essi scorsero l'arca e gioirono al vederla il carro arrivato al campo di giosuè il bet semes mi si fermò lì c'era una grande pietra allora spezzati i legni del carro offrirono le vitelle in olocausto al signore i leviti deposero l'arca del signore e la cassetta che era con essa contenente gli oggetti d'oro e la collocarono presso la grande pietra gli uomini di bet semes offrirono in quel giorno olocausti e fecero sacrificio al signore i cinque capi dei fidistei stettero ad osservare e poi ritornarono ad accaron nello stesso giorno questi sono i buboni d'oro che offrirono i fidistei in dono di espiazione al signore uno per asdod uno per gaza uno per ascalon uno per gatt uno per accaron i topi d'oro furono secondo il numero di tutte le città dei filistei dei cinque capi sia città fortificate che villaggi sguarniti testimone di ciò è la grande pietra dove deposero l'arca del signore e che sta nel campo di giosuè il bet samita fino al giorno d'oggi dio percosse tra gli uomini di bet semes che avevano curiosato nell'arca del signore 70 individui su 50.000 il popolo fece lutto perché il signore l'aveva colpito con un grande flagello allora gli uomini di bet semes dissero chi può stare davanti al signore un dio così santo da chi la manderemo lontano da noi mandarono messaggeri agli abitanti di kiria te ye arim per dire i filistei hanno ricondotto l'arca del signore scendete e portatela su da voi allora gli uomini di kiria te ye arim andarono a prendere l'arca del signore la portarono nella casa di abinadab sulla collina e consacrarono suo figlio eleazzaro perché custodisse l'arca del signore da quando l'arca si stabilì a kiria te ye arim passò molto tempo una ventina d'anni quando tutta la casa di israele si volse con lamenti verso il signore allora samuele così parlò a tutta la casa di israele se ritornate con tutto il vostro cuore al signore togliete via da mezzo a voi gli dei stranieri e le astarti fissate il vostro cuore nel signore e rendete culto soltanto a lui allora egli vi strapperà dalle mani dei filistei i figli di israele tolsero via i baal e le astarti e prestarono culto soltanto al signore disse poi samuele radunate tutto israele a mizpa e io intercederò per voi presso il signore radunatisi a mizpa attinsero acqua e la versarono al cospetto del signore in quel giorno fecero digiuno e confessarono abbiamo peccato contro il signore samuele giudicò i figli di israele a mizpa i filistei seppero che i figli di israele si erano radunati a mizpa allora i capi dei filistei salirono contro israele i figli di israele uditolo ebbero paura dei filistei dissero dunque i figli di israele a samuele non cessare di supplicare per noi il signore dio nostro perché ci salvi dalla mano dei filistei allora samuele prese un agnello da latte e lo offrì per intero in olocausto al signore poi implorò il signore in favore di israele ed egli lo esaudì mentre samuele stava offrendo il sacrificio i filistei avanzarono in battaglia contro israele ma il signore in quel giorno tuonò con grande fragore contro i filistei portando lo scompiglio ed essi furono sconfitti di fronte a israele gli uomini di israele usciti da mizpa inseguirono i filistei e li batterono fin sotto bet car samuele presa una pietra la drizzò tra mizpa e jesana e la chiamò e ben ezer dicendo fin qui ci ha aiutato il signore i filistei furono repressi e non tentarono più di entrare nei confini di israele e la mano del signore pesò sui filistei per tutti gli anni di samuele le città prese dai filistei a israele ritornarono a israele da accaron fino a gat e israele liberò quei territori dalle mani dei filistei ci fu anche pace tra israele e gli amorrei samuele fu giudice su israele per tutto il tempo della sua vita ogni anno andava in giro passando per betel galgala e mizpa esercitando l'ufficio di giudice in israele in tutti questi luoghi il suo recapito però era a rama poiché la era la sua casa e la faceva da giudice su israele ivi costruì un altare al signore samuele quando diventò vecchio costituì i suoi figli giudici di israele il primo genito si chiamava io el il secondo abia facevano da giudici a bersabea ma i suoi figli non camminavano sulle sue orme deviavano dietro il lucro accettavano doni e deformavano il giudizio allora si radunarono tutti gli anziani di israele andarono da samuele a rama e gli dissero ecco tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme ora stabilisci su di noi un re che ci governi come hanno gli altri popoli questa cosa dispiacque a samuele perché avevano detto dacci un re che ci governi perciò samuele implorò il signore il signore rispose a samuele ascolta la voce del popolo in tutto quello che ti hanno detto perché non hanno rigettato te ma hanno rigettato me perché non regni più su di essi conforme al comportamento costante che hanno tenuto dal giorno in cui io li trassi fuori dall'egitto fino al giorno d'oggi abbandonando me per servire altri dei così agiscono nei tuoi confronti ma ora ascolta la loro voce però fa loro una dichiarazione e annunzia loro il diritto del re che regnerà su di essi samuele riferì tutte le parole del signore al popolo che gli aveva chiesto un re disse questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi si prenderà i vostri figli per preporgli ai suoi carri e ai suoi cavalli perché corrano davanti al suo cocchio per costituirli capi di mille e capi di cinquanta per arare la sua campagna per mietere la sua messe per fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri prenderà anche le vostre figlie come profumiere cuoche e fornaie prenderà pure i vostri campi le vostre vigne e i vostri oliveti migliori e li darà ai suoi ministri prenderà la decima parte delle vostre sementi e delle vostre vigne e la darà ai suoi eunuchi e ai suoi ministri prenderà inoltre i vostri servi e le vostre serve i vostri giovani migliori così pure i vostri asini e li destinerà ai suoi lavori prenderà la decima parte delle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi voi manderete grida in quel giorno di fronte al vostro re che vi siete scelti ma il signore non vi risponderà il popolo non volle dare ascolto alla voce di samuele e disse no ma un re sarà sopra di noi così saremo anche noi come tutte le nazioni il nostro re ci governerà uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie samuele ascoltò tutte le parole del popolo e le riferì al signore il signore rispose a samuele ascolta la loro voce e far regnare un re su di loro allora samuele disse agli uomini d'israele ognuno ritorni alla sua città c'era un uomo di beniamino di nome chiss figlio di abiel figlio di zeror grazie 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 Non è forse il Signore che ti ha consacrato, principe, sul suo popolo, su Israele? Tu reggerai il popolo del Signore e lo salverai dal potere dei Suoi nemici tutti intorno. Questo sarà il segno per te che il Signore ti ha consacrato sulla Sua eredità. Oggi, partendo da me, incontrerai due uomini presso il sepolcro di Rachele sul confine di Beniamino, a Zelzac. Essi ti diranno, sono state ritrovate le asine che eri andato a cercare. Ecco che tuo padre, dimenticata la faccenda delle asine, è in ansia per voi, dicendo, che devo fare per mio figlio. Tu, oltrepassato quel luogo, arriverai alla quercia del Tabor. Là ti incontreranno tre uomini che salgono verso Dio in Betel. Uno porterà tre capretti, l'altro porterà tre pagnotte di pane, e il terzo porterà un'otre di vino. Essi ti saluteranno e ti offriranno due pani, che tu accetterai dalle loro mani. Dopo ciò, giungerai a Gaba di Dio, dove c'è il presidio dei Filistei. E mentre entrerai in città, ti imbatterai in uno stuolo di profeti, che scendono dall'altura, preceduti da arpa e tamburello, flauto eccetera, in atteggiamento da profeti. Allora irromperà su di te lo Spirito del Signore, e ti metterai a fare il profeta insieme con loro, e sarai trasformato in un altro uomo. Quando ti saranno accaduti questi segni, agisci secondo l'occasione, perché Dio è con te. Mi precederai a Galgala, ed ecco che io verrò da te per offrire olocausti e immolare sacrifici di comunione. Aspetterai sette giorni finché io venga da te, allora ti indicherò quello che dovrai fare. Quando voltò le sue spalle per lasciare Samuele, Dio gli trasformò il cuore, e tutti quei segni si avverarono in quello stesso giorno. Giunti là a Gaba, ecco che gli venne incontro un gruppo di profeti. Allora lo Spirito di Dio irruppe su di lui, ed egli si mise a fare il profeta in mezzo ad essi. Accadde che chi lo conosceva da tempo, quando lo vide fare il profeta tra i profeti, si dicevano l'un l'altro. Che è successo al figlio di Chis? Perfino Saul è tra i profeti. Uno del luogo disse, e chi è il loro padre? Per questo motivo diventò proverbiale il detto, perfino Saul è tra i profeti. Finito di agire da profeta, giunse alla collina. Lo zio di Saul domandò a lui e al suo servo, dove siete andati? Rispose, a cercare le asine, ma visto che non c'erano, siamo andati da Samuele. Riprese lo zio di Saul, raccontami quello che vi ha detto Samuele. Saul rispose a suo zio, ci ha assicurato che le asine erano state ritrovate, ma il fatto della regalità di cui aveva parlato Samuele, non glielo raccontò. Samuele convocò il popolo presso il Signore a Mizpah e disse ai figli di Israele. Così dice il Signore, Dio di Israele. Io ho tratto Israele dall'Egitto e vi ho liberato dalla mano dell'Egitto e dalla mano di tutti i regni che vi opprimevano. Ma voi oggi rigettate il vostro Dio, Lui che vi salva da tutti i vostri mali e dalle vostre angustie, e gli dite, Costituisci un re su di noi. Or dunque presentatevi davanti al Signore per tribù e per casati. Samuele fece avvicinare tutte le tribù di Israele e la sorte cadde sulla tribù di Beniamino. Fece avvicinare la tribù di Beniamino per parentadi e la sorte designò il parentado di Matri. Fece allora avvicinare il parentado di Matri per individui e la sorte designò Saul figlio di Kiss. Lo ricercarono, ma non fu trovato. Consultarono ancora il Signore. L'uomo è venuto qui? Rispose il Signore. Eccolo, sta nascosto tra i bagagli. Corsero a prenderlo di là. Ed egli si presentò in mezzo al popolo. Era più alto di tutti dalla spalla in su. Allora Samuele disse a tutto il popolo, Avete veduto dunque quello che il Signore si è eletto? Non ce n'è uno come lui fra tutto il popolo. Allora tutto il popolo acclamò gridando, Viva il re! Allora Samuele proclamò al popolo il diritto della regalità. Lo scrisse in un libro e lo depose davanti al Signore. Poi Samuele congedò tutto il popolo, ognuno a casa sua. Anche Saul andò a casa sua a Gabaa e lo seguirono i valorosi a cui Dio aveva toccato il cuore. Ma certi maligni dissero Che salvezza ci porterà questo tale? E così lo disprezzarono e non gli portarono doni. Ma egli rimase come chi non sente. Nakas l'Ammunita andò ad accamparsi contro Iabes di Galahad. Allora tutti gli uomini di Iabes dissero a Nakas Scendi a patti con noi e ti serviremo. Rispose loro Nakas l'Ammunita. A questa condizione verrò a patti con occhio destro. Lo farò ad infamia di tutto Israele. Gli risposero gli anziani di Iabes. Concedici sette giorni per mandare messaggeri in tutto il territorio di Israele e se non troveremo chi ci salva ci arrenderemo a te. I messaggeri andarono a Gabaa di Saul e riferirono le cose al popolo. Allora tutto il popolo alzò grida e pianse. Ecco che Saul stava tornando dietro i buoi dal campo. Saul domandò Che cos'ha il popolo che piange? Gli riferirono le parole degli uomini di Iabes. Allora irruppe lo spirito di Dio su Saul appena questi udì tali cose e la sua ira si accese furente. Prese un paio di buoi e li fece a pezzi. Poi li spedì in tutto il territorio di Israele per mezzo di messaggeri dicendo Chiunque non esce dietro Saul e dietro Samuele riceverà un tale trattamento per il suo bestiame. Allora il terrore del Signore si sparse sul popolo ed essi uscirono compatti come un uomo solo. Saul li passò in rassegna a Bezek. I figli di Israele erano 300.000 e gli uomini di Giuda 30.000. Poi dissero ai messaggeri che erano venuti Così direte agli abitanti di Iabes di Galahad Domani quando il sole comincerà a scaldare avrete il soccorso. I messaggeri rientrarono e lo annunziarono agli uomini di Iabes che ne gioirono. Allora gli uomini di Iabes dissero Domani usciremo da voi e ci farete tutto quello che vi piacerà. Il giorno seguente Saul dispose il popolo in tre schiere le quali penetrate in mezzo all'accampamento sul far del mattino batterono Ammon fino al caldo del giorno. I superstiti poi si sbandarono. Non ne rimasero due insieme. Allora il popolo disse a Samuele Chi è che ha detto Saul regnerà su di noi? Consegnateci quegli uomini e li metteremo a morte. Rispose Saul Oggi nessuno sarà messo a morte perché oggi il Signore ha operato la salvezza in Israele. Allora Samuele disse al popolo Venite andiamo a Galgala per inaugurarvi il regno. Tutto il popolo andò a Galgala e là riconobbe re Saul davanti al Signore. Là offrirono sacrifici di comunione davanti al Signore e là Saul si rallegrò oltremodo insieme con tutti gli uomini di Israele. Samuele disse a tutto Israele Ecco ho dato ascolto alla vostra voce in tutto quello che mi avete detto e ho costituito un re su di voi ed ora ecco che il re incede davanti a voi quanto a me sono vecchio con i capelli bianchi e i miei figli eccoli sono con voi io ho condotto la mia vita davanti a voi dalla giovinezza fino a questo giorno eccomi rispondetemi davanti al Signore e davanti al suo consacrato a chi ho preso il bue a chi ho preso l'asino a chi ho fatto estorsione chi ho oppresso dalla mano di chi ho accettato un prezzo di riscatto velandomi gli occhi con esso ve lo restituirò risposero non ci hai fatto estorsioni non ci hai oppressi e non hai accettato niente dalla mano di nessuno soggiunse loro è testimone il Signore contro di voi ed è testimone il suo consacrato in questo giorno non avete trovato niente nella mia mano risposero è testimone Samuele disse al popolo è testimone il Signore che ha stabilito Mosè e Aronne e ha tratto fuori i vostri padri dalla terra d'Egitto ora presentatevi perché voglio denunciare a voi davanti al Signore e annunziarvi tutte le opere di bontà che il Signore ha fatte a voi e ai vostri avi quando Giacobbe entrò in Egitto e gli egiziani l'oppressero i vostri antenati si rivolsero con gemiti al Signore ed egli mandò Mosè e Aronne che fecero uscire i vostri padri dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo ma essi dimenticarono il Signore loro Dio ed egli li dette in potere di Sisara capo dell'esercito di Azor e in potere dei Filistei e in potere del re di Moab i quali mossero loro guerra essi si rivolsero con gemiti al Signore e dissero abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato il Signore e abbiamo servito i Baal e le Astarti ma ora salvaci dalla mano dei nostri nemici e saremo tuoi servi allora il Signore mandò Ierub Baal e Barak Iefte e Samuele e vi liberò dalla mano dei vostri nemici all'intorno e siete vissuti nella sicurezza avete veduto che Nakas re dei figli di Ammon è venuto contro di voi e mi avete detto no un re regni su di noi mentre il Signore vostro Dio è il vostro re ma ora ecco il re che avete scelto e avete richiesto ecco il Signore ha costituito un re su di voi se temerete il Signore e lo servirete e darete ascolto alla sua voce senza disobbedire al comando del Signore e voi e il re che regna su di voi seguirete il Signore vostro Dio bene ma se non darete ascolto alla voce del Signore e sarete ribelli al comando di Lui allora la mano del Signore sarà contro di voi e contro i vostri padri proprio adesso state a vedere il grande prodigio che il Signore sta per compiere davanti ai vostri occhi non è oggi la mietitura del grano io invocherò il Signore ed egli manderà tuoni e pioggia comprendete e vedete il male che avete fatto chiedendo per voi un re è grande agli occhi del Signore allora Samuele invocò il Signore ed egli mandò tuoni e pioggia in quel giorno così tutto il popolo ebbe gran timore del Signore e di Samuele tutto il popolo disse a Samuele prega il Signore Dio tuo per i tuoi servi perché non ci colga la morte infatti abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati un altro male chiedendo per noi un re rispose Samuele al popolo non abbiate paura sì voi avete fatto tutto questo male però non vogliate allontanarvi dal Signore ma servite a Lui con tutto il vostro cuore non dovete deviare perché seguireste cose vuote che non vi portano fortuna e non vi possono salvare proprio perché esse sono cose vuote certo il Signore non rigetterà il suo popolo a causa del suo grande nome perché egli si è compiaciuto di costituirvi suo popolo quanto a me non sia mai che io pecchi contro il Signore cessando di pregare per voi anzi vi istruirò nella buona e retta via temete dunque il Signore e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore osservate quale grande cosa abbia fatto per voi ma se vi ostinate a fare il male sia voi che il vostro re perirete Saul aveva trent'anni quando diventò re e regnò quarant'anni su Israele saul si scelse 3.000 uomini da Israele 2.000 erano con saul a mikmas e sul monte di betel 1.000 erano con jonata a gabba di beniamino rimandò invece il resto del popolo ognuno alla sua tenda jonata batte il presidio dei filistei che si trovava a gabba ma lo riseppero i filistei allora saul suonò il corno in tutto il paese dicendo ascoltino gli ebrei tutto Israele udì e disse saul ha battuto il presidio dei filistei israele si è anche reso odioso ai filistei allora il popolo fu richiamato a galgala al seguito di saul i filistei intanto si erano radunati per far guerra contro Israele trentamila carri seimila cavalieri e una truppa numerosa come l'arena che è in riva al mare salirono e si accamparono a Mikmas ad oriente di Bethaven quando gli israeliti si accorsero di trovarsi in angustia e la gente era incalzata si nascosero nelle caverne nelle boscaglie tra le balze nei sotterranei e nelle cisterne alcuni ebrei passarono il giordano verso la terra di Gad e il Galahad mentre saul era a galgala tutto il popolo che lo seguiva tremava dalla paura attese sette giorni secondo il tempo fissato da samuele ma samuele non arrivò a galgala cosicché il popolo si allontanava da lui disse allora saul portatemi l'olocausto e i sacrifici di comunione ed offrì l'olocausto appena finito di offrire l'olocausto ecco arrivare samuele saul gli uscì incontro per salutarlo samuele domandò che cosa hai fatto saul rispose ho veduto che il popolo si allontanava da me e tu non eri venuto al giorno stabilito mentre i filistei si trovano adunati a mikmas allora ho detto ora scenderanno i filistei verso di me a galgala mentre io non ho propiziato il signore così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto samuele rispose a saul hai agito stoltamente non osservando il comando che ti ha dato il signore tuo dio perché ora il signore avrebbe stabilito per sempre la tua regalità su israele ora invece la tua regalità non permarrà il signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore lo ha designato principe sul suo popolo poiché tu non hai osservato quello che il signore ti aveva comandato samuele si alzò risalì da galgala e se ne andò per la sua via il resto del popolo salì ad incontrare i guerrieri al seguito di saul e giunse da galgala a gaba di beniamino saul passò in rassegna la truppa che si trovava con lui erano circa 600 uomini mentre saul suo figlio jonata e la truppa che si trovava con loro erano stazionati a gaba di beniamino i filistei erano accampati a mikmas dal campo dei filistei fece irruzione il gruppo guastatori diviso in tre pattuglie una pattuglia si diresse sulla via di ofra verso la terra di sual un'altra pattuglia si diresse sulla via di bet coron la terza pattuglia si diresse sulla via del confine che dà sulla valle di zeboim verso il deserto allora non si trovava un fabbro in tutto il paese di israele perché i filistei dicevano che gli ebrei non facciano spade né lance così ogni israelita scendeva dai filistei per affilare il proprio vomere lama scure o lama del vomere l'affilatura costava due terzi di ciclo per il vomere le lame e un terzo l'affilatura delle scuri e del pungolo e così nel giorno della battaglia non si trovava una spada né una lancia in mano a tutto il popolo che era con saul e con jonata ne fu trovata solo una per saul e per suo figlio jonata intanto una postazione di filistei uscì verso il passo di micmas un giorno jonata figlio di saul disse al suo scudiero disse al suo scudiero su portiamoci verso la postazione dei filistei che è dall'altra parte ma non avvertì suo padre risiedeva all'estremità di gaba sotto il melograno che è a migron la sua truppa era di circa 600 uomini a chi ha figlio di achitub fratello di icabod figlio di finees figlio di eri sacerdote del signore in silo indossava lefod la truppa non sapeva che jonata se ne fosse andato tra le gole tra cui jonata cercava di passare verso la postazione dei filistei c'è un dente di roccia da un lato e un dente di roccia dall'altro uno si chiama bozez e l'altro sene il primo dente sporge da settentrione verso micmas e il secondo da mezzogiorno verso gaba jonata disse al suo scudiero su portiamoci verso la postazione di quegli incirconcisi forse il signore agirà in nostro favore perché il signore non ha difficoltà a salvare in molti o in pochi lo scudiero rispose fa tutto quello che hai nel tuo cuore prosegui eccomi con te secondo il tuo desiderio disse jonata ecco noi ci portiamo verso quegli uomini e ci faremo vedere da loro se ci diranno aspettate finché non giungiamo da voi allora resteremo sul posto senza salire verso di loro se invece diranno salite verso di noi allora saliremo perché il signore li ha dati in nostro potere questo è per noi il segno i due si fecero vedere dal presidio dei filistei e i filistei esclamarono ecco che gli ebrei sbucano dalle caverne dove si erano rintanati poi gli uomini della guarnigione rivolsero la parola a jonata e al suo scudiero dicendo salite da noi vi faremo sapere una cosa disse jonata al suo scudiero sali dietro di me perché il signore li ha posti in potere di israele jonata si arrampicò con le mani e con i piedi e il suo scudiero dietro di lui quelli cadevano davanti a jonata mentre il suo scudiero li finiva dietro di lui la prima strage compiuta da jonata e dal suo scudiero fu di circa venti uomini in appena mezzo iugero di terreno ne nacque uno spavento nell'accampamento nella campagna e in tutto il popolo perfino la guarnigione e i guastatori si spaventarono la terra tremò e incusse uno spavento divino le sentinelle di Saul che erano a Gaba di Beniamino si misero a guardare e videro che il campo si agitava da ogni parte Saul disse al popolo che era con lui fate l'appello e vedete chi è partito dei nostri fecero la rassegna e si accorsero che mancava jonata con il suo scudiero allora disse Saul ad Akiah avvicina l'Ephod poiché egli portava l'Ephod in quei giorni davanti ai figli di Israele mentre Saul stava ancora parlando al sacerdote il tumulto nell'accampamento dei filistei andava sempre crescendo e Saul disse al sacerdote ritira la tua mano Saul convocò tutta la gente che era con lui e andarono fino al luogo della battaglia ed ecco la spada di uno era contro il compagno un parapiglia enorme quegli ebrei che per il passato stavano con i filistei ed erano saliti con quelli all'accampamento si ribellarono anch'essi per unirsi con gli israeliti che erano con Saul e jonata allora ogni israelita che si era nascosto sulla montagna di Efraim udito che i filistei erano in fuga si misero a tallonarli in battaglia in quel giorno il signore salvò Israele la battaglia andò oltre Bethaven gli israeliti erano sfiniti in quel giorno perché Saul fece giurare al popolo maledetto quell'uomo che toccherà cibo fino a questa sera prima che mi sia vendicato dei miei nemici tutto il popolo non assaggiò cibo percorsa tutta la regione nella boscaglia si trovò del miele a fior di terra giunto il popolo alla boscaglia ecco un rivolo di miele ma nessuno portò la mano alla sua bocca perché il popolo aveva timore del giuramento Gionata che non aveva sentito quando suo padre aveva fatto fare il giuramento al popolo stese l'estremità del bastone che aveva nella sua mano la intinse nel favo di miele e portò la sua mano alla bocca e i suoi occhi si riaccesero un tale del popolo prese la parola e disse tuo padre ha fatto fare un severo giuramento al popolo dicendo maledetto quell'uomo che toccherà cibo oggi sebbene il popolo fosse sfinito Gionata disse mio padre ha fatto un danno al paese vedete che i miei occhi si sono illuminati perché ho appena assaggiato un po' di questo miele molto più se il popolo avesse potuto mangiare della preda presa ai suoi nemici ora non sarebbe stata più grande la disfatta dei filistei in quel giorno batterono i filistei da Mikmas fino ad Ayalon ma il popolo era del tutto sfinito allora il popolo si dette al saccheggio prese pecore buoi vitelli e li sgozzò a terra la gente però mangiava con tutto il sangue fu riferito a Saul ecco il popolo sta peccando contro il signore mangiando col sangue e gli disse voi agite perversamente rotolate subito verso di me una grande pietra poi Saul ordinò spargetevi tra il popolo e ditegli ognuno mi porti qua il proprio bue e ognuno il suo montone lo scannerete qui e poi lo mangerete senza peccare contro il signore mangiando la carne con il sangue tutto il popolo ognuno con il suo bue a mano lo condusse quella notte e lo scannarono in quel luogo Saul costruì un altare al signore fu il primo altare che costruì al signore poi Saul disse scendiamo di notte a inseguire i filistei deprediamoli fino alla luce del mattino senza lasciare anima viva tra loro gli risposero fa pure tutto quello che piace ai tuoi occhi il sacerdote disse avviciniamoci qui a Dio Saul domandò a Dio posso scendere a inseguire i filistei gli darai mano a Israele ma in quel giorno non gli diede risposta allora Saul disse avvicinatevi qua capi tutti del popolo cercate e considerate in che consiste il peccato di oggi perché per la vita del signore salvatore di Israele è certo che costui morrà anche se fosse Gionata mio figlio non ci fu tra tutto il popolo chi osasse rispondergli poi disse a tutto Israele voi state da una parte e io e mio figlio Gionata staremo dall'altra il popolo rispose a Saul fa quello che piace ai tuoi occhi disse Saul al signore Dio di Israele perché non hai risposto oggi al tuo serbo se è colpa in me o in Gionata mio figlio o signore Dio di Israele da urim se invece il peccato è nel tuo popolo Israele da tummim vennero designati Gionata e Saul e il popolo uscì libero disse Saul gettate la sorte tra me e Gionata mio figlio fu designato Gionata allora Saul disse a Gionata raccontami cosa hai fatto Gionata rispose ho assaggiato appena un po' di miele con la punta del bastone che avevo in mano eccomi che io muoia Saul soggiunse questo mi faccia Dio e peggio ancora tu certamente morrai Gionata ma il popolo disse a Saul dovrà forse morire Gionata che ha procurato questa grande vittoria in Israele non sia mai per la vita del Signore non cadrà a terra un capello della sua testa perché ha operato con Dio quest'oggi il popolo riscattò Gionata ed egli non morì così Saul desistette dall'inseguire i filistei e i filistei se ne andarono al loro paese Saul consolidò il regno su Israele e fece guerre all'intorno contro tutti i suoi nemici contro Moab gli Ammoniti Edom i re di Zoba e contro i filistei ovunque si volgeva vinceva fece provezze batte Amalek liberando Israele dalla mano del suo razziatore i figli di Saul furono Gionata Isbaal e Malkisua il nome delle sue figlie era Merab la maggiore Michal la minore il nome della moglie di Saul era Achinoam figlia di Achimaz il nome del capo del suo esercito Abner figlio di Ner zio di Saul Kis padre di Saul e Ner padre di Abner erano figli di Abiel ci fu guerra spietata contro i filistei per tutta la vita di Saul ogni uomo prode e ogni persona valorosa che Saul vedeva la prendeva con sé Samuele disse a Saul è stato il Signore a mandarmi a consacrarti re sul suo popolo Israele ora da ascolto alle parole del Signore così dice il Signore degli eserciti voglio vendicare quello che Amalek ha fatto a Israele quando gli sbarrò la via mentre usciva dall'Egitto ora va e colpisci Amalek vota all'anatema tutto quello che gli appartiene non aver pietà di lui uccidi uomini e donne ragazzi e lattanti buoi e pecore cammelli e asini Saul convocò il popolo e lo passò in rassegna a Telaim 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda Saul avanzò fino alla città di Amalek e tese un'imboscata nella valle Saul disse ai Keniti separatevi allontanatevi di mezzo agli Amalekiti affinché io non vi accomuni a loro tu infatti usasti misericordia a tutti i figli di Israele quando essi salirono dall'Egitto così i Keniti si separarono dagli Amalekiti Saul colpì Amalek a partire da Avila in direzione di Sur che è ad oriente dell'Egitto catturò vivo Agag re di Amalek mentre passò tutto il popolo a fil di spada Saul e il popolo risparmiarono Agag e la parte migliore del greggio e dell'armento gli animali grassi gli agnelli e ogni cosa buona questi non li vollero votare all'amatema invece ogni cosa disprezzabile e magra la votarono all'amatema allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele mi pento di aver costituito re Saul poiché egli si è allontanato da me non eseguendo i miei ordini Samuele ne ebbe sdegno e implorò il Signore tutta quella notte al mattino Samuele si affrettò ad andare incontro a Saul fu data questa notizia a Samuele Saul è giunto a Carmel ed ecco che si è eretto un trofeo poi proseguendo la strada del ritorno è sceso a Galgala quando Samuele arrivò da Saul Saul gli disse benedetto tu dal Signore ho eseguito l'ordine del Signore ma Samuele disse e cosa è questo belato di gregge nelle mie orecchie e questo mugito dell'armento che sto udendo io Saul rispose è stato riportato da Amalek perché il popolo ha risparmiato il meglio del gregge e dell'armento per poterlo sacrificare al Signore tuo Dio il resto però l'abbiamo votato all'amatema Samuele disse a Saul permetti che ti annunzi quello che mi ha detto il Signore in questa notte gli rispose di pure Samuele soggiunse tu benché piccolo ai tuoi propri occhi non sei forse il capo delle tribù di Israele il Signore ti ha consacrato re su Israele il Signore ti ha inviato a una spedizione dicendo va vota all'anatema quei peccatori di Amalekiti e fa loro guerra finché non siano sterminati perché non hai dato ascolto alla voce del Signore ma ti sei gettato sulla preda e hai compiuto ciò che è male agli occhi del Signore Saul rispose a Samuele ma sì che ho dato ascolto alla voce del Signore mi sono messo per la via per la quale il Signore mi ha mandato ho riportato Agag re di Amalek ma gli amaleciti li ho votati all'anatema il popolo ha prelevato dalla preda pecore e buoi il meglio dell'interdetto per sacrificarlo al Signore tuo Dio a Galgala Samuele rispose forse il Signore si compiace degli olocausti e dei sacrifici come dell'obbedienza alla voce del Signore ecco l'obbedienza è migliore del sacrificio la docilità migliore del grasso dei montoni sì un peccato di divinazione è la ribellione e vano culto e terrafim è l'ostinazione poiché hai rigettato la parola del Signore egli ti ha rigettato dall'essere re Saul disse a Samuele ho peccato perché ho trasgredito il comando del Signore e le tue parole poiché ho avuto paura del popolo ho dato ascolto alla sua voce ma ora ti prego sopporta il mio peccato e ritorna con me che io faccia adorazione al Signore ma Samuele rispose a Saul non ritornerò con te poiché hai rigettato la parola del Signore il Signore ti ha rigettato dall'essere re su Israele Samuele si voltò per partire ma egli afferrò un lembo del suo manto che si strappò gli disse allora Samuele oggi il Signore strappa la regalità di Israele da dosso a te e la dà a uno più degno di te la gloria di Israele non mentisce e non si pente perché egli non è un uomo da doversi ricredere Saul esclamò ho peccato ora ti prego rendimi onore davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele ritorna con me perché io faccia adorazione al Signore tuo Dio Samuele ritornò insieme con Saul e Saul fece adorazione al Signore Samuele disse conducetemi qua Agag re di Amalek Agag Agag andò da lui gongolante e disse veramente se n'è andata l'amarezza della morte ma Samuele disse come la tua spada privò di figli le donne così tra le donne tua madre sarà priva del figlio poi Samuele sgozzò Agag davanti al Signore a Galgala Samuele andò poi a Rama mentre Saul risalì alla sua casa a Gaba di Saul Samuele non volle più vedere Saul fino al giorno della sua morte perché Samuele faceva lutto su Saul e il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele il Signore disse a Samuele fino a quando fai lutto su Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni più su Israele rienti il tuo cornetto d'olio e va ti mando da Iesse il betlemita perché ho veduto tra i suoi figli il mio re rispose Samuele come potrò andare lo sentirà Saul e mi ucciderà il Signore riprese prenderai con te una vitella dell'armento e dirai sono venuto per offrire un sacrificio al Signore inviterai gli esse al sacrificio io ti indicherò quello che dovrai fare e tu mi consacrerai colui che io ti dirò Samuele esegui quello che aveva ordinato il Signore arrivato a betlemme gli anziani della città gli andarono incontro trepidanti e gli domandarono è pacifica la tua venuta rispose pacifica sono venuto per offrire un sacrificio al Signore purificatevi e venite con me al sacrificio fece purificare gli esse e i suoi figli e li invitò al sacrificio quando essi giunsero egli osservò Eliab ed esclamò oh il consacrato sta davanti al Signore ma il Signore disse a Samuele non badare al suo aspetto e all'altezza della sua statura poiché l'ho respinto perché l'uomo non vede quello che vede Dio l'uomo infatti guarda all'apparenza ma il Signore guarda al cuore i esse chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele questi disse nemmeno questo è scelto dal Signore i esse fece passare Samma e Samuele disse nemmeno questo è scelto dal Signore i esse fece passare così i suoi sette figli davanti a Samuele ma Samuele disse a i esse il Signore non ha scelto nessuno di questi Samuele domandò a i esse sono dunque tutti qui i giovani quello rispose è rimasto ancora il più piccolo che ora sta pascolando il gregge Samuele disse a i esse manda a prenderlo perché non ci metteremo a tavola finché egli non sia venuto qui egli lo fece venire era rosso con begli occhi e bell'aspetto il Signore disse su consacralo perché è lui allora Samuele preso il cornetto d'olio lo consacrò in mezzo ai suoi fratelli lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi Samuele si alzò e ritornò a Rama intanto lo spirito del Signore si era allontanato da Saul e lo aveva invaso uno spirito malvagio da parte del Signore i cortigiani di Saul gli dicevano ecco uno spirito malvagio di Dio ti ha invaso il nostro Signore dunque dia ordini i tuoi servi sono davanti a te essi cercheranno un uomo che sappia sonare la cetra quando lo spirito malvagio di Dio sarà su di te egli sonnerà con la sua mano e tu ne avrai beneficio Saul disse ai suoi cortigiani cercatemi per favore un uomo che sappia sonare bene e conducetemelo uno dei suoi cortigiani prese la parola e disse ecco ho veduto un figlio di Iesse il Betlemita sassonare è un prode e un guerriero abile parlatore e uomo di bella presenza e il Signore è con lui allora Saul mandò dei messaggeri a Iesse dicendo mandami tuo figlio Davide che è con il gregge Iesse prese un carico di pane un otre di vino e un capretto e li mandò a Saul per mezzo di Davide suo figlio Davide giunto da Saul rimase al suo servizio Saul gli si affezionò molto e Davide diventò suo scudiero Saul mandò a dire a Iesse rimanga Davide al mio servizio perché egli ha trovato benevolenza ai miei occhi così quando lo spirito di Dio era su di Saul Davide prendeva la cetra e sonava con la sua mano Saul trovava la calma ne aveva un beneficio e lo spirito malvagio si allontanava da lui i filistei radunarono le loro truppe per la guerra si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azeca a Efes Dammim Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono in battaglia contro i filistei i filistei stavano da un lato della collina Israele stava dall'altro lato della collina e fra essi vi era la valle uscì dagli accampamenti dei filistei un duellante di nome Golia di Gat la cui altezza era di sei cubiti e un palmo aveva sul capo un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a scaglie il peso della corazza era di cinquemila sicli di bronzo aveva gambali di bronzo ai suoi stinchi e un giavellotto di bronzo ad armacollo il legno della sua lancia era come il subio del tessitore e la punta della sua lancia pesava seicento sicli di ferro il portatore dello scudo marciava davanti a lui si fermò e gridando verso le schiere di israele disse loro perché siete usciti a preparare una battaglia non sono io filisteo e voi servi di saul sceglietevi un uomo che scenda in campo con me se lui avrà la forza di combattere con me e mi batterà noi saremo vostri schiavi ma se io prevarrò su di lui e lo batterò voi sarete nostri schiavi e ci servirete il filisteo soggiunse io ho vilipeso le schiere di israele in questo giorno datemi un uomo per combattere insieme saul e tutto israele udite le parole del filisteo rimasero costernati ed ebbero gran paura davide era figlio di un'efratita di betlemme di giuda di nome iesse che aveva otto figli ai giorni di saul quest'uomo era vecchio avanzato negli anni i tre figli maggiori di iesse erano andati in guerra al seguito di saul il nome dei tre figli di iesse andati in guerra erano eliab il primogenito abinadab il secondo samma il terzo davide era il più piccolo i tre più grandi dunque erano andati al seguito di saul davide andava e veniva da saul per pascolare il greggio di suo padre a betlemme il filisteo si faceva avanti mattina e sera e si presentò così per quaranta giorni iesse disse a suo figlio davide prendi per i tuoi fratelli un'efa di questi semi abrustoliti e questi dieci pani e portali in fretta al campo per i tuoi fratelli e queste dieci formelle di cacio le offrirai al capo dei mille ti informerai dei tuoi fratelli se stanno bene e poi ritirerai il loro pegno essi stanno con saul e con tutto israele alla valle del terebinto a far la guerra contro i filistei la mattina presto davide si levò affidò il greggio al guardiano prese la roba e partì come gli aveva comandato i esse giunse dove erano i carri mentre le truppe uscivano per schierarsi e mandavano il grido di battaglia israele e i filistei si erano schierati l'uno contro l'altro davide affidò gli oggetti che aveva indosso al custode dei bagagli e corse allo schieramento giunto chiese ai fratelli notizie sulla salute egli stava parlando con loro quando ecco l'uomo sfidante il filisteo di gat di nome golia uscire dalle schiere dei filistei e pronunziare le solite parole davide ascoltò tutti gli israeliti invece quando videro quell'uomo fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura allora un israelita disse vedete quell'uomo che avanza avanza proprio per sfidare israeli ma colui che lo colpirà sarà ricolmato di grandi ricchezze dal re gli darà sua figlia ed esenterà dai tributi la casa di suo padre in israeli davide domandò agli uomini che stavano presso di lui che cosa sarà fatto a quell'uomo che colpirà questo filisteo e allontanerà la vergogna da israele ma chi è questo filisteo incirconciso che abbia potuto sfidare le schiere del dio vivo il popolo gli rispose allo stesso modo così sarà fatto a colui che lo colpirà suo fratello maggiore eliab lo sentì parlare con gli uomini così eliab si accese d'ira contro davide e disse perché sei venuto giù a chi hai affidato quelle poche pecore nel deserto io conosco la tua arroganza e la malizia del tuo cuore certo sei sceso per vedere la battaglia rispose davide che ho fatto ora non è stata solo una parola e si allontanò da lui volgendosi verso un altro fece la stessa domanda e il popolo gli dette la stessa risposta di prima le parole pronunciate da davide furono udite e riportate a saul il quale lo mandò a chiamare davide disse a saul nessuno si scoraggia a causa di lui il tuo servo andrà a combattere con quel filisteo saul saul disse a davide non puoi andare contro quel filisteo a combattere con lui perché tu sei un ragazzo e lui è un uomo agguerrito fin dalla sua giovinezza davide rispose a saul il tuo servo faceva il pastore del gregge di suo padre quando veniva il leone o l'orso per prendere una pecora del gregge io lo inseguivo lo colpivo e gliela strappavo dalla bocca lui si avventava contro di me ma io lo afferravo per la sua mascella e colpendolo lo uccidevo si perfino il leone perfino l'orso ha colpito il tuo servo questo filisteo incirconciso sarà come uno di loro perché ha sfidato le schiere del dio vivo davide aggiunse il signore che mi ha salvato dalla zampa del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà dalla mano di quel filisteo allora saul disse a davide va il signore sarà con te saul fece rivestire davide con la sua casacca pose sul suo capo l'elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza davide si cinse della spada di lui sopra la casacca e provò in vano a camminare perché non vi era abituato davide disse a saul non riesco a camminare con queste cose perché non ci sono abituato così davide se le tolse di dosso prese invece il suo bastone in mano si scelse cinque luci diciotoli dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore e nella tasca poi con la sua fionda in mano si avviò verso il filisteo il filisteo si avvicinava sempre più a davide mentre l'uomo che portava lo scudo lo precedeva il filisteo guardò fisso e scorto davide lo disprezzò perché era giovane rosso e di bella presenza il filisteo disse a davide sono forse un cane io che tu vieni contro di me con dei bastoni poi il filisteo maledisse davide per i suoi dei il filisteo apostrofò davide avvicinati che voglio dare la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie selvagge davide rispose al filisteo tu vieni contro di me con la spada la lancia e il giavellotto ma io vengo contro di te nel nome del signore degli eserciti dio delle schiere di israele che tu hai sfidato quest'oggi il signore ti consegnerà il mio potere e io ti colpirò mozzerò la tua testa da te e darò in questo giorno la tua carogna e le carogne delle truppe dei filistei agli uccelli del cielo e alle bestie della terra così tutta la terra saprà che israele a un dio tutto questo assembramento conoscerà che il signore non concede la vittoria con la spada e l'asta perché al signore appartiene la guerra e vi ha consegnato il nostro potere allora il filisteo prese ad avvicinarsi ancora più verso davide davide si affrettò e corse verso il campo contro il filisteo davide infilò la sua mano nella sacca ne trasse fuori un ciottolo lo frombolò e colpì il filisteo alla fronte il sasso si conficcò nella sua fronte ed egli cadde con la faccia a terra così davide prevalse sul filisteo con la fionda e con il ciottolo colpendolo e uccidendolo benché non avesse alcuna spada in mano davide corse e si fermò sul filisteo afferrò la spada di lui la estrasse dal fodero e lo uccise troncandogli con essa la testa quando i filistei videro che il loro campione era morto si dettero alla fuga allora si levarono gli uomini di israele e di giuda e gridando inseguirono i filistei fino allo sbocco della valle e fino alle porte di accaron gli uccisi dei filistei caddero sulla via di saaraim fino a gat e a accaron poi i figli di israele ritornarono dall'inseguimento dei filistei e si dettero a saccheggiare i loro accampamenti davide prese la testa del filisteo e la portò a gerusalemme mentre le sue armi le depose nella propria tenda quando saul aveva visto davide uscire contro il filisteo disse ad abener capo dell'esercito di chi è figlio questo giovane o abener abener rispose per la tua vita o re non lo so il re riprese domanda tu stesso di chi è figlio il ragazzo quando davide ritornò dopo avere ucciso il filisteo abener lo prese e lo condusse davanti a saul con la testa del filisteo ancora in mano saul lo interrogò di chi sei figlio giovanotto davide rispose sono figlio di iesse il betlemita tuo servo quando davide ebbe finito di parlare a saul l'anima di jonata si sentì legata all'anima di davide jonata lo amò come la sua anima saul lo trattenne quel giorno e non gli permise di ritornare a casa di suo padre jonata fece un patto con davide perché lo amava come la sua anima jonata si tolse il proprio manto che aveva indosso e lo dette a davide così pure le sue vesti e perfino la sua spada il suo arco e la sua cintura davide aveva successo nelle scorrerie ovunque saul lo mandasse cosicché saul lo prepose agli uomini di guerra era ben visto da tutto il popolo e perfino dai cortigiani di saul a loro rientro quando davide ritornava dopo avere battuto il filisteo le donne uscirono incontro al re saul da tutte le città di israele per cantare danzando con tamburelli con grida di gioia e con sistri le donne danzavano ripetendo il ritornello saul colpì le sue migliaia ma davide le sue miriadi saul se ne adirò fortemente e questa cosa gli dispiacque diceva a davide hanno attribuito le miriadi e a me hanno dato le migliaia ora gli manca solo il regno così saul guardò davide con gelosia da quel giorno in poi l'indomani uno spirito maligno di dio irruppe su saul e questi si mise a delirare in mezzo alla casa mentre davide sonava con la sua mano come gli altri giorni saul aveva la sua lancia in mano saul scagliò la lancia pensando trafiggerò davide alla parete ma davide si eclissò dalla sua presenza due volte saul aveva timore della presenza di davide perché il signore era con lui e si era ritirato da saul allora saul se lo tolse da presso e ne fece un capo di mille ed egli andava e veniva alla testa della truppa davide aveva successo in ogni sua impresa e il signore era con lui saul constatando che egli era molto fortunato ne aveva timore ma tutto israele e giuda amavano davide perché era lui che andava e veniva davanti a loro saul propose a davide ecco la mia figlia maggiore merab te la darò per moglie solo mostrati valoroso e combatti le battaglie del signore infatti saul aveva pensato non sia la mano mia contro di lui ma quella dei filistei davide rispose a saul chi sono io e cosa è la famiglia di mio padre in israele perché io possa diventare genero del re quando però venne il momento di dare merab figlia di saul a davide essa fu data in moglie ad adriel di mecola michal figlia di saul si era invece innamorata di davide lo riferirono a saul al quale piacque la cosa saul pensava gliela voglio dare perché ella sia un laccio per lui e sia la mano dei filistei contro di lui così saul disse due volte a davide sarai mio genero quest'oggi saul ordinò ai suoi cortigiani parlate in segreto a davide e dite ecco il re prova affetto per te e tutti i suoi serviti vogliono bene diventa dunque genero del re i cortigiani di saul riportarono queste cose all'orecchio di davide ma egli rispose è piccola cosa ai vostri occhi diventare genero del re io sono un uomo povero e spreggevole i cortigiani di saul gli riferirono davide ha parlato in questi termini saul disse così direte a davide il re non desidera la dote ma cento prepuzzi dei filistei per fare vendetta contro i nemici del re saul pensava di far cadere davide nelle mani dei filistei i cortigiani riferirono a davide quelle proposte e la proposta sembrò buona agli occhi di davide per diventare genero del re non erano trascorsi i giorni fissati che davide si levò e partì con i suoi uomini e colpì tra i filistei duecento uomini davide riportò i loro prepuzzi che furono consegnati al re in numero esatto per diventare genero del re allora saul gli dette sua figlia michael per moglie saul vide e comprese che il signore era con davide e michael sua figlia lo amava allora saul ebbe ancor più timore di davide e fu per tutti i giorni ostile a davide i capi dei filistei fecero delle incursioni ma ogni volta che le facevano davide aveva più successo di tutti gli altri ministri di saul così il suo nome diventò molto famoso saul comunicò a suo figlio jonata e a tutti i suoi cortigiani di voler uccidere davide ma jonata figlio di saul aveva molto affetto per davide e lo avvertì dicendo mio padre saul sta cercando di farti morire fa dunque attenzione domattina rimani in un luogo riparato e nasconditi io uscirò e rimarrò accanto a mio padre nella campagna dove tu ti trovi e parlerò di te a mio padre vedrò che cosa succede e te lo farò sapere jonata parlò bene di davide a suo padre saul e gli disse non pecchi il re contro il suo servo contro davide perché egli non ha mancato contro di te anzi le sue imprese ti sono molto utili egli ha esposto la sua vita a rischio ha battuto il filisteo e il signore ha operato una grande vittoria per israele intero hai veduto e ti sei rallegrato perché ora vuoi peccare contro un sangue innocente facendo morire davide senza motivo saul dette ascolto alla voce di jonata e giurò per la vita del signore non morrà jonata chiamò davide e gli riferì tutte quelle cose poi jonata ricondusse davide da saul ed egli stette alla presenza di lui come per il passato vi fu di nuovo la guerra allora davide uscì e diede battaglia ai filistei inflisse loro una grande disfatta ed essi si dettero alla fuga davanti a lui uno spirito maligno del signore fu su saul mentre questi stava nella sua casa con la sua lancia in pugno e davide stava suonando la cetra saul cercò di colpire davide con la lancia contro la parete ma questi si allontanò da saul che infisse la lancia nel muro davide fuggì e si mise in salvo quella notte saul inviò dei messi alla casa di davide per sorvegliarlo e farlo morire il mattino dopo ma sua moglie michal informò davide dicendo se non ti metti in salvo questa notte tu domani sarai morto allora michal fece scendere davide per la finestra egli partì prese la fuga e si mise in salvo michal prese poi i terafim e li pose presso il letto al suo capezzale mise un tessuto di capra e lo coprì con un panno quando saul mandò messi per prendere davide e la disse è malato ma saul rinviò i messi per vedere davide e disse loro portatemelo qua nel letto per ucciderlo arrivarono i messi ma ecco che presso il letto c'erano i terafim e il panno di capra per capezzale saul disse a michal perché mi hai ingannato così mandando via il mio nemico perché si mettesse in salvo michal rispose a saul è lui che mi ha detto lasciami andare perché dovrei farti morire davide fuggì e si mise in salvo andò da samuele a rama e gli raccontò tutto quello che gli aveva fatto saul allora lui e samuele se ne andarono ad abitare a naiot la cosa fu riferita a saul ecco davide e a naiot di rama saul spedì messaggeri per catturare davide ma quando essi videro la comunità dei profeti in atto di profetare e samuele che li precedeva lo spirito di dio venne sui messaggeri di saul e anch'essi si misero ad agire come profeti lo riferirono a saul il quale mandò altri messi ma anche questi si misero a fare i profeti saul mandò ancora un terzo gruppo di messi ma anche questi si misero a fare i profeti allora andò egli stesso a rama e giunto alla cisterna grande che è a secu domandò dove sono samuele e davide uno rispose ecco a naiot di rama allora andò a naiot di rama ma venne lo spirito di dio anche su di lui ed egli se ne andava avanti facendo il profeta finché giunse a naiot di rama anch'egli si tolse le vesti e fece il profeta davanti a samuele e cadde nudo per tutto quel giorno e tutta quella notte per questo si dice perfino saul è tra i profeti davide fuggì da naiot di rama e andò a dire a jonata che cosa ho fatto grazie Grazie a tutti. 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 Il Re. Grazie a tutti. Allora, Davide, domandò, e... 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 non c'è... e... e... non... e... 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 perché... l'incarico del re... era urgente. il sacerdote... c'è... di... e... 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 davide... e... fuggì... e... da... e... 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 scarabocchiava... scarabocchiava sui battenti della porta... e faceva colare bava sulla sua barba. Achis disse ai suoi servi. Ecco, vedete, l'uomo è matto. Perché me lo avete condotto? Ho forse bisogno di matti? Che mi conducete questo tale per fare il pazzo alle mie spalle? Deve entrare questo tale in casa mia? Davide partì di là... e si mise in salvo nella grotta di Adullam. Quando lo seppero i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre, scesero laggiù da lui. Si radunò intorno a lui chiunque era in strettezze, chiunque aveva un creditore e chiunque aveva la vita amareggiata. Egli diventò loro capo. Erano con lui circa quattrocento uomini. Poi Davide andò da lì a Mizpah di Moab e disse al re di Moab, possa ritirarsi mio padre con mia madre presso di voi fino a che io sappia quello che Dio farà per me. Li presentò al re di Moab, ed essi rimasero con lui tutto il tempo della permanenza di Davide nella fortezza. Il profeta Gad disse a Davide, non rimanere nella fortezza, ma inoltrati nella terra di Giuda. Davide partì e si inoltrò nella foresta di Keret. Saul aveva saputo che Davide era stato scoperto insieme con gli uomini che erano con lui. Saul stava a Gaba sotto il tamarisco sull'altura con la sua lancia in mano, e tutti i suoi cortigiani lo attorniavano. Saul disse ai cortigiani che lo assistevano, ascoltate, beniaminiti, forse che il figlio di Iesse darà anche a tutti voi campi e vigne, vi costituirà tutti capi di migliaia e capi di centinaia, perché avete fatto con giura tutti quanti contro di me. Non c'è stato uno che mi abbia avvertito quando mio figlio strinse un patto con il figlio di Iesse, e non c'è tra voi uno che si ammali per me e mi avverta che mio figlio ha suscitato il mio servo contro di me per tendermi insidie come avviene quest'oggi. Rispose Doeg l'Idumeo che stava con i cortigiani di Saul. Ho veduto il figlio di Iesse che è venuto a Nob da Achimelec, figlio di Achitub. Questi ha consultato il Signore per lui, gli ha dato provvigioni e gli ha consegnato pure la spada di Golia, il Filisteo. Il re mandò a chiamare il sacerdote Achimelec, figlio di Achitub, e tutta la casa di suo padre, i sacerdoti che erano a Nob. Essi andarono tutti insieme dal re. Disse Saul, Ascolta dunque, figlio di Achitub. Gli rispose, Eccomi, o mio Signore. Saul gli disse, Perché avete fatto con giura contro di me, tu e il figlio di Iesse, quando tu gli hai dato pane e spada e hai consultato Dio per lui, affinché si levasse contro di me come oppositore, com'è quest'oggi? Achimelec rispose al re, Ma tra tutti i tuoi cortigiani, chi è come Davide, fedele, genero del re, aggregato alla tua guardia, onorato nella tua casa? E oggi che ho cominciato a consultare Dio per lui? Non sia mai. Il re non imputi al suo servo e a tutta la casa di mio padre alcun misfatto, perché il tuo servo non conosceva di tutto ciò né poco né molto. Il re rispose, Achimelec certamente morrai, tu e tutta la famiglia di tuo padre. Il re ordinò ai cursori che lo assistevano, volgetevi e uccidete i sacerdoti del Signore, perché anch'essi hanno dato la mano a Davide. Essi sapevano che quello stava fuggendo, ma non mi hanno avvertito. Ma i cortigiani del re non vollero stendere la loro mano per colpire i sacerdoti del Signore. Allora il re disse a Doeg, volgiti tu e colpisci i sacerdoti. Doeg l'idumeo, lui sì, si volse e colpì i sacerdoti. Uccise in quel giorno 85 uomini che portavano l'efod di lino. Nob poi, città dei sacerdoti, la passò a fil di spada, uomini e donne, bambini e lattanti, buoi, asini e pecore. Si salvò un solo figlio di Achimelec, figlio di Achidub, di nome Ebiatar, il quale se ne fuggì al seguito di Davide. Ebiatar annunziò a Davide che Saul aveva ucciso i sacerdoti del Signore. Davide disse ad Ebiatar, sapevo in quel giorno che Doeg l'idumeo, lì presente, l'avrebbe certamente riferito a Saul. Mi sono volto io contro la vita di tutti quelli della casa di tuo padre. Rimani con me, non avere paura, perché chi cerca la vita mia cerca la tua. Per questo sarai ben custodito presso di me. Fu riferito a Davide. Ecco, i filistei stanno combattendo contro Keila e stanno saccheggiando le aie. Davide consultò il Signore dicendo, potrò andare a battere quei filistei? Il Signore rispose a Davide, va, batterai i filistei e salverai Keila. Ma gli uomini di Davide gli dissero, ecco, noi siamo pieni di paura qui in Giuda, quanto più andando a Keila contro le schiere dei filistei. Davide consultò una seconda volta il Signore ed egli gli rispose, alzati, scendi a Keila, perché io metterò i filistei nelle tue mani. Allora Davide andò con i suoi uomini a Keila, dette battaglia ai filistei, catturò i loro bestiami e inflisse loro una dura sconfitta. Così Davide salvò gli abitanti di Keila. Quando Ebiatar, figlio di Achimele, che fuggì presso Davide, discese a Keila con l'efo dei mano. Fu riferito a Saul che Davide era entrato a Keila. Allora Saul disse, Dio l'ha consegnato in mio potere, perché si è chiuso entrando in una città munita di porte e di sbarra. Saul convocò tutto il popolo alla guerra per discendere a Keila e stringere da sedio Davide e i suoi uomini. Davide comprese che Saul stava macchinando dei mali contro di lui e disse al sacerdote Ebiatar, Avvicina l'Ephod. Davide disse, Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha inteso dire che Saul sta cercando di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. I principali di Keila mi consegneranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha inteso dire? Signore, Dio di Israele, dè, fallo sapere al tuo servo. Il Signore rispose, Scenderà. Riprese Davide. I principali di Keila mi consegneranno insieme con i miei uomini nella mano di Saul? Il Signore rispose, Vi consegneranno. Allora Davide e i suoi uomini, circa seicento, uscirono da Keila e vagarono all'avventura. Quando Saul ebbe la notizia che Davide si era messo in salvo da Keila, desistette dalla spedizione. Davide abitò nel deserto tra i dirupi, abitò nella montagna, nel deserto di Ziff. Saul gli dava la caccia tutti i giorni, ma Dio non lo consegnò nelle sue mani. Davide sapeva che Saul era uscito per attentare alla sua vita. Egli stava allora nel deserto di Ziff a Corsa. Gionata, figlio di Saul, si mosse e andò da Davide a Corsa per infondergli coraggio in nome di Dio. Gli disse, Non temere, perché la mano di mio padre Saul non ti potrà raggiungere. Anzi, tu regnerai su Israele e io ti sarò secondo. Anche mio padre Saul sa che è così. I due conclusero un patto alla presenza del Signore. Poi Davide rimase a Corsa, mentre Gionata ritornò a casa sua. Alcuni Ziffiti salirono a Gaba e dissero a Saul, Davide non sta nascosto presso di noi tra i dirupi a Corsa, ma sulla collina di Cachilà che è a sud di Iesimon? Or dunque, per tutta la brama che hai di scendere, or re, scendi, a noi il consegnarlo nelle mani del re. Rispose Saul, Siate benedetti dal Signore che avete avuto compassione di me. Andate dunque, assicuratevi ancora, cercate di individuare e vedere il luogo dove si posa il suo piede. Chi l'ha veduto là? Perché mi è stato detto, egli è molto astuto. Osservate e informatevi di tutti i nascondigli dove si possa rifugiare. Poi ritornate da me con la conferma e verrò con voi se sarà nella zona, lo ricercherò in tutti i casati di Giuda. Essi partirono e ritornarono a Ziff precedendo Saul. Intanto Davide e i suoi uomini erano nel deserto di Maon, nella steppa a sud di Iesimon. Saul andò con i suoi uomini a dargli la caccia, ma alcuni lo riferirono a Davide, il quale discese nel dirupo e rimase nel deserto di Maon. Quando Saul lo udì, si pose all'inseguimento di Davide nel deserto di Maon. Saul marciava da un versante del monte e Davide con i suoi uomini dall'altro versante del monte. Mentre Davide, spaventato, cercava di sfuggire dalla faccia di Saul e Saul e i suoi uomini stavano accerchiando Davide e i suoi uomini per catturarli, arrivò un messaggero a dire a Saul su, sbrigati, parti, perché i filistei hanno invaso il paese. Così Saul cessò dall'inseguimento di Davide e marciò contro i filistei. Per questo, quel luogo fu chiamato rupe della separazione. Davide salì e da lì per abitare tra i rifugi di Engabdi. Quando Saul ritornò dall'inseguimento dei filistei, gli riferirono. Ecco, Davide sta nel deserto di Engabdi. Saul prese tremila uomini scelti da tutto Israele e andò alla ricerca di Davide e dei suoi uomini sugli strapiombi delle rocce degli stambecchi. Arrivato a certi recinti di pecore al lato della strada dove c'era una caverna, Saul vi entrò per coprire i suoi piedi. Davide e i suoi uomini stavano nelle profondità della caverna. Gli uomini di Davide gli dissero, Ecco il giorno in cui il Signore ti dice, Ecco, io pongo il tuo nemico nelle tue mani e tu gli farai quello che pare bene ai tuoi occhi. Davide si alzò e tagliò furtivamente un lembo del manto di Saul. Ma dopo ciò a Davide batte il cuore, perché aveva tagliato un lembo del manto di Saul. Disse ai suoi uomini, Mi guardi il Signore dal fare questa cosa al mio Signore, al consacrato dal Signore, stendendo la mia mano su di lui. Egli, infatti, è il consacrato del Signore. Davide dissuase i suoi uomini con severe parole e non permise loro di insorgere contro Saul. Così Saul partì dalla caverna e se ne andò per la sua via. Poi si levò anche Davide, uscì dalla caverna e gridò a Saul, O re mio Signore! Saul si girò indietro. Davide si gettò a terra facendo prostrazioni. Poi Davide disse a Saul, Perché dai ascolto alle parole di chi dice, Ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco che quest'oggi i tuoi occhi constatano che il Signore ti aveva messo oggi stesso nella mia mano nella caverna e uno mi suggeriva di ucciderti. Ma ho avuto pietà di te e ho detto, Non stenderò la mia mano sul mio Signore, perché egli è consacrato dal Signore. O Padre mio! Guarda il lembo del tuo manto nella mia mano. Poiché, quando io ho tagliato il lembo del tuo manto, non ti ho ucciso. Sappi e osserva che non viene le mie azioni né male né delitto e non ho peccato contro di te. Ma tu tendi insidie alla mia vita per togliermela. Che il Signore faccia da giudice tra me e te. E il Signore mi vendichi di te. Ma la mia mano non sarà contro di te. Come dice un antico proverbio, dai malvagi esce malvagità, ma la mia mano non sarà contro di te. Dietro a chi è uscito il re di Israele? Dietro a chi tu stai correndo? Dietro un cane morto? Dietro una semplice pulce? Il Signore sarà l'arbitro e farà da giudice tra me e te. Che egli esamini e difenda la mia causa e mi renda giustizia dalla tua mano. Quando Davide finì di rivolgere queste parole a Saul, egli rispose, «Questa è la tua voce, figlio mio Davide?» E Saul, alzando grida, pianse. Poi disse a Davide, «Tu sei più retto di me, perché tu mi hai reso del bene, mentre io ti ho reso del male. E tu oggi hai manifestato il bene che hai fatto verso di me, in quanto il Signore mi aveva consegnato nella tua mano, ma tu non mi hai ucciso». Quando un uomo incontra il suo nemico, lo lascia andare tranquillamente per la sua via, il Signore ti renderà del bene per quello che mi hai fatto quest'oggi. E ora, ecco, io so che tu certamente sarai re e il potere regale su Israele sarà stabile nella tua mano. Ordunque, giurami per il Signore che non sopprimerai la mia discendenza dopo di me e che non farai scomparire il mio nome dal casato di mio padre. Davide lo giurò a Saul. E Saul se ne ritornò alla sua casa, mentre Davide e i suoi uomini salirono alla fortezza. Samuele morì, e gli israeliti si radunarono, fecero il ritrono nella sua casa a Rama. Davide si mosse e discese verso il deserto di Paran. C'era a Maon un uomo che aveva le sue proprietà a Carmel e quest'uomo era molto ricco. Aveva 3.000 pecore e 1.000 capre. Egli si trovava a Carmel durante la tosatura del suo gregge. Quest'uomo si chiamava Nabal e sua moglie Abigail. La donna era dotata di buonsenso e di bell'aspetto, mentre l'uomo era duro e di cattive maniere. Era un calebita. Quando Davide udì nel deserto che Nabal stava tosando il suo gregge, mandò dieci giovanotti. Davide disse ai giovanotti, salite a Carmel, andate da Nabal e salutatelo a nome mio. Direte così, evviva, pace a te, pace alla tua casa, pace a tutte le tue cose. Ho inteso dire adesso che hai i tosatori. Or quando i tuoi pastori sono stati presso di noi, non li abbiamo molestati e non è mancato niente delle loro cose durante tutto il tempo della loro permanenza a Carmel. Interroga i tuoi servi e ti informeranno. Trovino questi giovanotti benevolenza ai tuoi occhi perché siamo venuti per una bella festa. Dona di grazia ciò che ti capita in mano ai tuoi servi e al tuo figlio Davide. I giovanotti di Davide andarono, riferirono a Nabal tutte quelle parole nel nome di Davide e rimasero in attesa. Ma Nabal rispose ai servi di Davide. Chi è Davide? E chi è il figlio di Iesse? Oggi sono tanti i servi che scappano dalla presenza dei loro padroni. Prenderò dunque il pane mio e l'acqua mia, gli animali miei che ho ucciso per i miei tosatori e dovrò darli a gente che non so di dove sia? I giovanotti di Davide ripresero la loro strada e fecero ritorno. Al loro arrivo gli riferirono tutte quelle cose. Davide disse ai suoi uomini ognuno si cinga la spada. Essi cinsero ognuno la propria spada. Anche Davide cinse la sua spada. Circa quattrocento uomini salirono dietro Davide e duecento rimasero presso i bagagli. Uno dei servi riferì ad Abigail, moglie di Nabal così. Ecco, Davide ha mandato messaggeri dal deserto per salutare il nostro padrone, ma lui ha inveito contro di loro. Questi uomini invece sono stati molto buoni con noi. Non abbiamo ricevuto molestie né ci è mancato niente per tutto il tempo che abbiamo girovagato insieme con loro quando stavamo nella steppa. Essi sono stati intorno a noi come un muro di protezione notte e giorno per tutto il tempo in cui siamo stati presso di loro mentre pascolavamo il gregge. Ma ora interessati e vedi quello che puoi fare. Certamente è preparata una sventura per il nostro padrone e contro tutta la sua casa. Egli è un uomo così perverso che non gli si può parlare. Allora Abigail prese in fretta duecento pani, due otre di vino, cinque pecore belle e cucinate, cinque misure di semi abbrustoliti, cento grappoli di uva passa e duecento tortelle di fichi secchi e li caricò sugli asini. Poi disse ai suoi servi, precedetemi, io vengo dietro a voi. Essa non disse niente a suo marito Nabal. Or mentre Costei, cavalcando un asino, scendeva riparata dal monte, Davide e i suoi uomini stavano discendendo verso di lei ed essa si imbatte in loro. Davide aveva detto, Ah, mi sono ingannato a proteggere tutto quello che appartiene a questo tale nel deserto e non gli è mancato niente di tutto quello che aveva. Mi ha reso male per bene. Dio faccia così a Davide e peggio ancora, se di tutto quello che possiede lascerò sussistere fino al mattino uno che faccia acqua al muro. Quando Abigail vide Davide, scese in fretta dall'asino e si prostrò fino a terra davanti a Davide. Cadendo ai suoi piedi disse, Mia, o mio signore, mia è la colpa, che la tua serva possa parlare alle tue orecchie e tu ascolta le parole della tua serva. Il mio padrone non faccia caso a quella razza d'uomo, a Nabal, perché lui è proprio come il suo nome, si chiama stolto ed è pieno di stoltezza. Ma io, tua serva, non ho veduto i giovani che il mio signore ha inviato. Ma ora, per la vita del signore e per la tua anima, o mio signore, poiché il signore ti ha impedito di giungere al sangue e di farti giustizia di tua propria mano, siano come Nabal i tuoi nemici e quelli che cercano il male del mio signore. E ora, questa benedizione che la tua serva ha portato al mio signore è donata ai giovani che camminano sui passi del mio signore. Perdona la mancanza della tua serva. Sì, certamente il signore farà al mio signore una casa stabile, perché il mio signore combatte le guerre del signore e non si trova in te alcun male fin dai tuoi primi giorni. Un uomo si è levato per inseguirti e per fare ricerca della tua vita, ma la vita del mio signore è racchiusa nello scrigno della vita presso il signore tuo Dio, mentre la vita dei tuoi nemici la frombolerà col cavo della fionda. E quando avverrà che il signore avrà fatto al mio signore tutto quel bene che ha predetto a tuo riguardo, costituendoti principe su Israele, allora questa cosa non sarà di rimorso e di ansietà per il cuore del mio signore. L'avere fuso il sangue inutilmente e l'esserti fatto giustizia con la tua mano, o mio signore, e quando il signore avrà fatto del bene al mio signore ti ricorderai della tua serva. Davide rispose ad Abigail, Benedetto è il Signore, Dio di Israele, che ti ha mandato oggi incontro a me. Benedetto il tuo senno e benedetta tu stessa che mi hai impedito quest'oggi di giungere al sangue e di farmi giustizia di mia mano. Altrimenti, per la vita del Signore, Dio di Israele, che mi ha trattenuto dal farti del male, se tu non ti fossi affrettata a venirmi incontro, non sarebbe rimasto certo a Nabal fino alla luce del mattino uno che facesse acqua al muro. Allora David accettò dalla sua mano quelle cose che ella gli aveva portato e le disse, ritorna in pace alla tua casa. Vedi, ho dato ascolta alla tua voce e ho accolto la tua presenza. Abigail ritornò da Nabal. Egli teneva un convito nella sua casa come un convito di re. Nabal aveva il cuore allegro ed era ubriaco fradicio. Così essa non gli fece sapere niente, né poco né molto, fino alla luce del mattino. Ma al mattino, quando i fumi del vino erano svaniti da Nabal, sua moglie gli raccontò l'accaduto. Allora il cuore gli venne meno in petto ed egli diventò come pietra. In capo a una decina di giorni il Signore percosse Nabal e questi morì. Quando Davide udì che Nabal era morto esclamò, benedetto il Signore che mi ha vendicato dell'oltraggio ricevuto da Nabal e ha preservato il suo servo da un misfatto. il Signore ha fatto ricadere sulla sua testa il male di Nabal. Allora Davide mandò a parlare ad Abigail per prendersela in moglie. I servi di Davide andarono da Abigail a Carmel e le parlarono così. Davide ci manda a prenderti per sua moglie. Essa si levò, si prostrò con la faccia a terra e rispose Ecco, la tua serva è come schiava per lavare i piedi dei servi del mio Signore. Abigail si alzò in fretta e montò sull'asino. Mentre cinque sue serve andavano al suo seguito e la andava dietro ai messaggeri di Davide. Così diventò sua moglie. Davide aveva preso anche Achinoam di Israel. Tutte e due furono sue mogli. Saul aveva dato sua figlia Michal, moglie di Davide, a Palti, figlio di Lais, originario di Gallim. Gli zifiti andarono a dire a Saul in Gabaa Davide non si trova nascosto forse sulla collina di Cachilà al limite di Iesimon? Saul si mosse e discese verso il deserto di Zif. Con lui vi erano tremila uomini scelti di Israele alla ricerca di Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sulla collina di Cachilà che è al limite di Iesimon lungo la strada mentre invece Davide se ne stava nel deserto. Quando vide che Saul era venuto ad inseguirlo nel deserto Davide mandò delle spie e seppe che Saul era venuto davvero. Allora Davide si mosse e andò al luogo dove era accampato Saul. Davide notò il luogo dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo del suo esercito. Saul dormiva tra i carriaggi mentre tutta la truppa era accampata intorno a lui. Davide si rivolse ad Achimelech e Littita e ad Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab e disse chi scende con me da Saul nell'accampamento? Abisai rispose scendo io con te. Davide e Abisai scesero di notte verso la truppa ed ecco che Saul giaceva addormentato tra i carri con la lancia infissa a terra al suo capezzale. Abner e la truppa dormivano intorno a lui. Abisai disse a Davide oggi Dio ti ha posto in mano il tuo nemico. Fammelo ora trafiggere a terra con la sua lancia in una sola volta senza bisogno di una seconda. Davide rispose ad Abisai non lo far perire perché chi potrà stendere la sua mano contro il consacrato del Signore e rimanere impunito? Davide soggiunse per la vita del Signore certamente lo percoterà il Signore sia che arrivato il suo giorno muoia sia che sceso in battaglia perisca. Mi guardi il Signore dallo stendere la mia mano contro il suo consacrato. Ora invece prendi la lancia che è al suo capezzale e la ciotola dell'acqua e andiamocene. Davide prese la lancia e la ciotola dell'acqua dal capezzale di Saul poi se ne andarono. Nessuno vide nessuno si accorse nessuno si svegliò. Infatti quelli erano tutti addormentati perché un sonno mandato dal Signore era caduto su di loro. Davide passato al versante opposto si fermò sulla cima del monte lontano. C'era molto spazio tra di loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner figlio di Ner. Abner non rispondi? Abner rispose Chi sei tu che gridi verso il re? Davide rispose ad Abner Non sei tu un uomo? E chi è come te in Israele? Perché non hai fatto la guardia al re tuo Signore? E' venuto infatti un uomo del popolo per uccidere il re tuo Signore. Non ti fa onore quello che hai fatto. Per la vita del Signore siete davvero degni di morte voi che non avete fatto la guardia al vostro Signore al consacrato del Signore. Ora guarda dov'è la lancia del re e la ciotola dell'acqua che era al suo capezzale. Allora Saul riconobbe la voce di Davide e disse Questa è la tua voce figlio mio Davide? Davide rispose È la mia voce o re mio Signore. Poi soggiunse Come mai il mio Signore insegue il suo servo? Che cosa ho fatto? E che male vi è nella mia condotta? Ora dunque il re mio Signore ascolti di grazia le parole del suo servo. Se il Signore ti istiga contro di me egli gradisca l'odore di un'offerta ma se sono i figli dell'uomo siano maledetti davanti al Signore perché oggi mi cacciano per impedirmi di partecipare all'eredità del Signore dicendo Va, servi altri dei. Ora il mio sangue non cada a terra lontano dalla presenza del Signore. Il re di Israele infatti è uscito a dare la caccia a una semplice pulce come si insegue una pernice sui monti. Saul rispose Ho peccato. Ritorna figlio mio Davide perché non ti farò più del male in quanto la mia vita quest'oggi è stata cosa preziosa ai tuoi occhi. Ecco, ho agito stoltamente e ho sbagliato molto gravemente. Davide riprese Ecco la lancia, o re. Passi qui uno dei giovanotti a riprenderla. Il Signore retribuirà ad ognuno secondo la propria giustizia e la propria fedeltà. Oggi infatti il Signore ti ha consegnato nella mia mano ma non ho voluto stendere la mia mano contro il consacrato del Signore. Ecco, la tua vita è stata preziosa oggi ai miei occhi così sarà cara la mia vita agli occhi del Signore ed egli mi libererà da ogni angustia. Saul rispose a Davide benedetto sei tu figlio mio Davide certamente quello che farai ti riuscirà pienamente poi Davide se ne andò per la sua strada e Saul ritornò alla sua dimora Davide pensò dentro di sé certo un giorno o l'altro perirò per la mano di Saul perirò per la mano di Saul non vedi meglio per me Tiristei Saul desisterà dal cercarmi ancora in tutti i confini di Israele e mi salverò Davide si mosse e passò con i seicento uomini che erano con lui da Achis figlio di Maoc re di Gath Davide dimorò presso Achis a Gath lui e i suoi uomini ognuno con la propria famiglia Davide e le sue due mogli Achinoam di Israele e Abigail già moglie di Nabal quando fu riferito a Saul che Davide si era rifugiato a Gath egli non continuò più a dargli la caccia Davide disse ad Achis ti prego se ho trovato grazie ai tuoi occhi mi si dia un luogo in una delle città della steppa dove possa abitare perché il tuo serbo deve abitare nella città reale insieme con te in quel giorno Achis gli consegnò Ziglag per questo Ziglag appartiene ai re di Giuda fino a oggi il numero dei giorni in cui Davide rimase nelle steppe dei Filistei fu di un anno e quattro mesi Davide partiva con i suoi uomini a fare razzie contro i Gesuriti i Ghirziti e gli Amaleciti essi abitavano la regione che va da Telam verso Sur fino alla terra d'Egitto Davide devastava la regione e non lasciava vivo né uomo né donna mentre catturava greggi e armenti asini e cammelli e indumenti al ritorno andava da Achis Achis domandava dove avete fatto razzie oggi? Davide rispondeva contro il Negeb di Giuda contro il Negeb dei Ierameeliti contro il Negeb dei Keniti Davide non lasciava vivo né uomo né donna da riportare a Gath pensando affinché non diano notizie a nostro riguardo dicendo così ha fatto Davide tale fu la sua condotta tutti i giorni in cui rimase nella steppa dei Filistei Achis ebbe fiducia in Davide pensando certamente è diventato odioso al suo popolo Israele e sarà per sempre mio servo in quei giorni i Filistei radunarono le loro truppe per combattere contro Israele allora Achis disse a Davide sappi bene che dovrai uscire in campo con me tu e gli uomini tuoi Davide rispose ad Achis benissimo tu vedrai quello che farà il tuo servo Achis soggiunse d'accordo ti costituirò per sempre mia guardia del corpo Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto lutto e lo avevano seppellito a Rama sua città Saul aveva fatto scomparire dal paese i Negromanti e gli Indovini quando i Filistei si furono radunati andarono e si accamparono a Sunam anche Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe Saul al vedere l'accampamento dei Filistei ebbe paura e il suo cuore tremò forte allora Saul consultò il Signore ma il Signore non gli dette risposta né con sogni né con gli Urim né per mezzo di profeti allora Saul disse ai suoi servi cercatemi una donna che possieda il potere evocatore perché voglio andare da essa per consultarla i suoi servi risposero ecco una donna che possiede il potere di evocare sta a Endor Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due altri uomini giunsero dalla donna di notte e gli disse su praticami la divinazione per mezzo di negromanzie evocandomi colui che io ti dirò gli rispose la donna ecco tu sai quello che ha compiuto Saul che ha fatto scomparire i Negromanti e gli Indovini dal paese perché tendi insidia la mia vita per farmi morire allora Saul le giurò per il Signore per la vita del Signore non subirai alcun castigo per questo fatto la donna domandò chi devo evocarti rispose evocami Samuele quando la donna vide Samuele gridò a gran voce e disse a Saul perché mi hai ingannata tu sei Saul le rispose il re non devi aver paura su che cosa vedi la donna rispose a Saul vedo salire divinità dalla terra le domandò qual è il suo aspetto e la rispose un uomo vecchio sale avvolto in un manto Saul capì che quello era Samuele cadde con la faccia a terra e si prostrò Samuele domandò a Saul perché mi hai molestato evocandomi rispose Saul mi trovo in una grande angustia i filistei mi fanno guerra e Dio si è allontanato da me non mi risponde più né per mezzo dei profeti né per mezzo dei sogni allora ho voluto chiamarti perché mi indichi cosa devo fare Samuele rispose perché consulti me se il Signore si è allontanato da te ed è diventato tuo avversario il Signore ha fatto come aveva detto per mezzo mio ha strappato il regno dalla tua mano e l'ha data un altro a Davide poiché non hai dato ascolto alla voce del Signore e non hai dato corso all'ardore del suo sdegno contro Amalek per questo il Signore oggi ti tratta in questo modo il Signore darà in potere dei filistei anche Israele insieme con te domani tu e i tuoi figli sarete con me il Signore consegnerà nelle mani dei filistei anche l'accampamento di Israele Saul cadde a terra all'istante lungo e disteso preso da un grande spavento per le parole di Samuele rimase senza forze perché non aveva preso cibo tutto quel giorno e tutta quella notte la donna si avvicinò a Saul e vedendolo tutto sconvolto gli disse ecco la tua serva ha dato ascolto alla tua voce io ho posto a repentaglio la mia vita per dare ascolto alle parole che mi hai rivolto ora ascolta anche tu la voce della tua serva io porrò davanti a te un boccone di pane mangialo la forza ritorni in te per rifare il cammino egli ricusò dicendo non mangio i suoi servi lo forzarono così pure la donna egli dette ascolto si alzò da terra e si pose a sedere sul letto la donna aveva un vitello ingrassato nella stalla lo uccise in fretta e presa la farina la impastò e ne fece pani azimi li pose davanti a Saul e ai suoi servi essi mangiarono poi si alzarono e ripartirono la notte stessa i filistei avevano radunato a Afec tutte le loro truppe mentre Israele stava accampato presso la sorgente che è in Israel i principi dei filistei sfilavano per cento e per mille mentre Davide e i suoi uomini sfilavano per ultimi con Achis i capi dei filistei domandarono cosa fanno questi ebrei Achis rispose ai capi dei filistei questi non è forse Davide servo di Saul re di Israele che è con me da uno o due anni non ho trovato in lui niente di male dal giorno della sua diserzione fino a quest'oggi ma i capi dei filistei si addirarono contro di lui e gli dissero fa tornare indietro quell'uomo ritorni alla località che gli hai assegnato non deve scendere con noi in battaglia per non diventare un nostro avversario nella battaglia con che cosa potrà egli rientrare nelle grazie dei suoi padroni non è forse con le teste di questi uomini questo non è Davide per il quale si ripeteva il ritornello nelle danze Saul battè le sue migliaia ma Davide le sue miriadi Achis chiamò Davide e gli disse per la vita del Signore tu sei retto e il tuo comportamento presso di me al campo è gradito ai miei occhi perché non ho trovato in te niente di male dal giorno della tua venuta da me fino a quest'oggi ma tu non sei gradito agli occhi dei principi ora ritorna e vai in pace così non darai dispiaceri ai principi dei filistei Davide disse ad Achis che cosa ho fatto? che hai trovato di male nel tuo servo dal giorno in cui fui presso di te fino a quest'oggi per non venire a combattere contro i nemici del re mio Signore Achis ripresa la parola disse a Davide capisco tu sei accetto ai miei occhi come un angelo di Dio ma i capi dei filistei hanno detto non deve salire con noi in battaglia levati domattina presto con i servi del tuo padrone che sono venuti con te e andate al luogo che vi ho assegnato non far caso a questa faccenda perché tu sei accetto alla mia presenza domattina alzatevi presto e allo spuntare dell'alba andatevene Davide si levò di buon'ora insieme con i suoi uomini per partire nella mattinata e fare ritorno al paese dei filistei i filistei invece salirono a Israel quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziglag al terzo giorno gli amaleciti avevano fatto razzie nel Negeb e a Ziglag avevano distrutto Ziglag dandola alle fiamme avevano fatto prigioniere tutte le donne e quanti vi erano dal più piccolo al più grande non avevano ucciso nessuno ma li avevano condotti via riprendendo la loro strada Davide giunse dunque con i suoi uomini alla città ecco, essa era incenerita dal fuoco le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati fatti prigionieri allora Davide e la truppa che era con lui levarono la loro voce in pianto finché non ebbero più in sé forza di piangere anche le due mogli di Davide erano state fatte prigioniere a Kinoam di Israel e a Bigail già moglie di Nabal da Carmel Davide si trovò in grande angustia perché la truppa parlava di lapidarlo tutti avevano l'animo esasperato ognuno per i propri figli e le proprie figlie ma Davide si aggrappò al Signore, suo Dio Davide disse al sacerdote Ebiatar figlio di Achimelech portami l'Ephod Ebiatar portò l'Ephod a Davide Davide consultò il Signore e domandò devo inseguire quella banda la raggiungerò gli rispose inseguila la raggiungerai e libererai i prigionieri Davide partì con i 600 uomini che aveva e giunse fino al torrente di Besor ma un gruppo si fermò Davide proseguì l'inseguimento con 400 uomini mentre 200 si erano fermati così affaticati da non poter attraversare il torrente di Besor trovarono un egiziano nella steppa e lo condussero a Davide gli dettero pane da mangiare gli fecero bere dell'acqua e gli offrirono una tortella di fichi secchi con due grappoli di uva passa egli mangiò e si sentì rivivere perché non aveva preso cibo e bevuto acqua per tre giorni e tre notti Davide gli domandò a chi appartieni e di dove sei? rispose io sono un giovane egiziano schiavo di una malecita il mio padrone mi ha abbandonato perché mi sono ammalato tre giorni fa abbiamo fatto razzie nel negeb dei cretei in quello di Giuda e nel negeb di Caleb e abbiamo dato fuoco a Ziglach Davide gli domandò mi vuoi guidare verso quella banda? gli rispose giurami per Dio che non mi farai morire e non mi consegnerai al mio padrone e io ti guiderò verso quella banda e ve lo guidò ed eccoli sparpagliati su tutta l'estensione della regione mangiavano, bevevano e facevano festa per tutta la grande preda che avevano asportato dalla terra dei Filistei e dalla terra di Giuda Davide li battè dall'alba fino alla sera del giorno seguente non se ne salvò nessuno se non quattrocento giovani i quali montati sui cammelli si dettero alla fuga Davide salvò tutto quello che Amalek aveva preso anche le sue due mogli non mancò loro niente dal più piccolo al più grande dai figli alle figlie dalla preda fino a tutto quello che si erano preso Davide ricuperò tutto Davide prese tutto il gregge e l'armento condussero davanti a lui quel bestiame dicendo questa è preda di Davide poi Davide arrivò dai duecento uomini che erano troppo spossati per seguire Davide e furono lasciati al torrente di Besor questi uscirono incontro a Davide e alla truppa che era con lui allora Davide si avvicinò con la truppa e domandò loro se stessero bene intanto alcuni cattivi e perversi individui tra gli uomini che erano andati con Davide presero a dire poiché non sono venuti con noi non daremo niente della preda che abbiamo recuperato eccetto la moglie e i figli di ciascuno li conducano via e se ne vadano Davide rispose non fate così fratelli miei con quello che il Signore ci ha dato ci ha protetti e ha consegnato il nostro potere quella banda venuta contro di noi chi vi darà ascolto in questa proposta perché quale la parte di chi scende in battaglia tale la parte di chi rimane presso i bagagli faranno le parti insieme da quel giorno in poi impose questa decisione come legge e norma a Israele fino ad oggi quando Davide rientrò a Ziglag mandò parte della preda agli anziani di Giuda suoi amici dicendo eccovi una benedizione parte della preda dei nemici del Signore a quelli di Betel a quelli di Rama nel Negev a quelli di Yattir a quelli di Aroer a quelli di Sifmot a quelli di Estemoah a quelli di Racal a quelli delle città degli Ierakmeeliti a quelli delle città dei Keniti a quelli di Corma a quelli di Borazan a quelli di Atac a quelli di Ebron e a tutte le località dove Davide era andato vagando con i suoi uomini intanto i filistei ingaggiarono battaglia contro Israele e gli uomini di Israele si dettero alla fuga di fronte ai filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe i filistei si gettarono addosso a Saul e ai suoi figli così colpirono Gionata Abinadab e Malchisua figli di Saul la battaglia si aggravò contro Saul gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito dagli arcieri allora Saul disse al suo scudiero sfodera la tua spada e trafiggimi con essa affinché non vengano quegli incirconcisi mi trafiggano e facciano sevizie su di me ma il suo scudiero non volle perché era pieno di timore allora Saul prese la spada e si gettò su di essa quando lo scudiero vide che Saul era morto anche egli si gettò sulla propria spada e morì con lui in quel giorno morirono insieme Saul i suoi tre figli il suo scudiero e tutti i suoi uomini quando gli israeliti che erano di là della valle e quelli che erano di là del Giordano videro che gli uomini di Israele erano fuggiti e che Saul e i suoi figli erano morti abbandonarono le città e fuggirono allora vennero i filistei e vi si stabilirono il giorno seguente i filistei andarono a spogliare gli uccisi e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Gelboe essi troncarono la testa di lui e lo spogliarono delle armi poi mandarono in giro nel paese dei filistei a dare la bella notizia nel tempio dei loro idoli e al popolo deposero le sue armi nel tempio di Astarte mentre il suo cadavere lo affissero alle mura di Bet-Sean gli abitanti di Iabes di Galaad udirono quello che i filistei avevano fatto a Saul allora si alzarono tutti gli uomini valorosi e dopo aver viaggiato tutta la notte presero il corpo di Saul e i corpi dei suoi figli dalle mura di Bet-Sean ritornarono a Iabes dove li bruciarono poi prese le loro ossa le seppellirono sotto il tamarisco a Iabes e fecero digiuno per sette giorni grazie 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 grazie